Bene allora iniziamo a capire intanto se tutti i relatori sono presenti e allora l'assessore e il sindaco Mangialardi ce l'abbiamo qua, invece Chiara Prevete perfetto, allora Paola Ciriaco l'abbiamo vista, abbiamo Mauro Cecchi l'abbiamo visto, Andrea Pellei, perfetto, Barbara Re, buongiorno benvenuti, allora e poi Silvia e Donatella sono qua, perfetto ok, perfetto, bene allora, buongiorno, abbiamo avuto modo già di presentarci grazie della vostra presenza così massiccia, la sessione parallela che stiamo per iniziare è legata alla rete regionale della governance locale digitale direi che il tema è stato ampiamente introdotto nella plenaria e devo dire che è stata completa perché abbiamo parlato prima della ricostruzione poi abbiamo parlato dell'emergenza e ora faremo dei focus, dei focus legati sia l'esperienza marchigiana ma con degli esperti che provengono da altre realtà culturali molto importanti, quindi sarà l'occasione anche per scambiarci esperienze e perché no in un ambito di reciproco scambio anche crescere insieme vedere punti di forza e punti di debolezza perché ovviamente i punti di breve come quella di prima non non sono emersi ma sicuramente ce ne ce ne sono abbiamo qua l'assessore preferisce parlare dopo bene all'assessore quindi un cambio di programma io bravo soldatino ti mettevo come da programma bene allora che dire se il collega mi manda una prima slide esatto la presentazione grazie allora ecco sì questo è il tema la rete regionale della governance locale digitale ok possiamo andare avanti questo è un po il sistema nella sua come dire gestione a blocchi fondamentalmente come soggetto attuatore sisma protezione civile siamo il punto di convergenza di tutta una serie di informazioni procedimenti procedura amministrative che ci provengono principalmente dai comuni dai 148 comuni interessati e per questo poi dopo darò la parola al presidente del lanci marche l'amico maurizio mangialardi ma ci sono altri soggetti che sono tenutari di azioni emergenziali sono soggetti attuatori l'unico punto di finanziamento è quello del soggetto attuatore sisma regione marche attraverso la piattaforma cohesion work pia capite che non è un sistema autoreferenziale ma un sistema per cercare di prima di tutto dare conto al dipartimento nazionale della protezione civile perché stiamo gestendo fondi dell'emergenza siamo fuori della contabilità ordinaria della regione marche e in più dobbiamo dare conto attraverso il dipartimento nazionale della protezione civile all'unione europea dei soldi che stiamo spendendo quanti soldi qualcosa si è detto tanti per quanto riguarda l'emergenza noi siamo arrivati in questo momento a spendere 500 milioni di euro fondamentalmente 483 però con le attestazioni che sono che sono ancora diciamo in corso stiamo parlando di 500 milioni di euro traguardiamo una spesa complessiva che si aggirerà intorno a 783 milioni di euro capite che sono somme importantissime somme importantissime per fare cosa e finalmente sono riuscito a recuperare un po il grafico che avrei avuto piacere di mostrarvi in plenaria questo è un grafico molto interessante a mio avviso perché rapporta all'andamento del del degli sfollati che a me piace un termine bruttissimo dei cittadini che hanno perso la propria abitazione con il tempo per fare questo grafico dietro questo grafico e c'è fondamentalmente quello che vi dicevo in plenaria cioè l'individuazione caso per caso soggetto per soggetto della loro situazione personale stiamo parlando di circa vedete dov'è la soglia 35 mila no di 34.500 di cui stavo parlando e si vede anche in maniera molto chiara come dopo l'ottobre del 2016 c'è stato questo picco diciamolo chiaramente che il sisma dell'agosto 2016 poi l'assessore mi se sbaglio mi contraddice è stato drammatico per il numero di vittime 300 complessivamente 301 per la precisione 50 marchigiani quindi come dire un lutto pesantissimo per i nostri collettivi della nostra comunità ma da un punto di vista del cratere era un cratere molto localizzato il sisma invece del ottobre 30 ottobre ha fatto impennare e siamo passati a quei 35 mila assistiti e fortunatamente abbiamo un andamento complessivo che è diciamo stabile ma è tendenzialmente appena appena calante perché contributo autonoma sistemazione a ecco questo è il grafico del totale questo invece il grafico esploso qua stiamo parlando del casse anche in questo caso si vede chiaramente come il contributo autonoma sistemazione ha subito un'impennata fortissima nell'ottobre 2016 è rimasto praticamente costante è andato via via diminuendo un pochino in relazione alla consegna delle soluzioni abitative di emergenza e a alcuni rientri in case poi dichiarate agibili interessante cosa è successo con gli alberghi anche in questo caso il dipartimento nazionale servizio regionale ha fatto i contratti standard con le strutture alberghiere ma il requisito soggettivo di ingresso era legato praticamente alla diciamo riconoscimento da parte dei comuni quindi anche in questo caso il ruolo comunale come del sindaco come autorità di protezione civile nell'essere garante che stavamo dando che stiamo dando ospitalità a un soggetto causa sisma anche in questo caso si vede perfettamente l'andamento e piano piano stiamo uscendo dall'emergenza alberghi dopo il picco toccato di circa 7500 persone stiamo adesso a circa mille 1700 questo è sono le soluzioni abitative d'emergenza purtroppo la scala è un po abberrata ma stiamo andando con le 2500 persone ospitate nelle soluzioni abitative d'emergenza e queste sono i famosi 75 villaggi che stiamo costruendo in queste zone montane complessivamente il quadro è questo qua bene costruire questo quadro questo grafico che da un punto di vista come dire grafico sembrerebbe semplice fondamentalmente c'è giorno per giorno la individuazione delle 33 mila circa posizioni soggettive quindi dietro ci sono 33 mila procedimenti amministrativi ogni giorno io credo di aver finito e dato la indicazione sensazione di quale complessità è stata anche la gestione emergenziale miei colleghi poi più avanti avranno modo di illustrarvela meglio e la partecipazione di esperti chiamiamoli esperti esterni nella nostra regione ci aiuterà a capire la loro esperienza e come la loro esperienza può avere ricadute positive in quello che stiamo facendo ruolo importantissimo quello dei comuni la parola a norizio mangialardi grazie grazie davide buongiorno a tutti sì saluto l'assessore ringrazio la regione per aver voluto un momento di approfondimento così articolato coinvolge tutti che c'è la possibilità di riaggiornarci e di segnare dei traccianti che colgono non solo per l'evento sisma ma anche attraverso l'evento sisma che come diceva il presidente prima è interessato metà della nostra regione e ha contaminato tutto il resto ci dà la possibilità di cogliere questo momento per ragionare e sto nel tema rispetto alle funzioni associate gli ambiti ottimali delle governance locali allora il sisma diceva davide prima ha interessato 150 comuni direttamente poi l'abbiamo articolate critere cratere cratere sì cratere no non 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 è questo il momento del delle valutazioni e dei parametri ma il sistema che per anni abbiamo cercato guardo ci sono anche tanti colleghi saluto roberto che qui davanti abbiamo cercato di trovare modalità per mettere insieme i comuni modalità il legislatore ne ne ha individuate diverse dalla fusione per incorporazione la fusione le unioni dei comuni e le le convenzioni guardate paradossalmente dentro percorsi che ognuno poi ha sperimentato che ha cercato di mettere in campo e con con qualche con qualche vantaggio e tanti fallimenti tutti legati ovviamente alle risorse che venivano trasferite e ai sostegni che che venivano messi in campo supporto della regione rispetto ad alcuni percorsi e difficoltà poi nella nella filiera di comunicazione con con i cittadini il paradosso è che con un evento che distrugge gran parte del nostro territorio troviamo una modalità per metterci insieme ma è una cosa che ovviamente sul piano politico fa fa riflettere molto no perché perché il lavoro penso come come associazione dei comuni che abbiamo fatto non solo a livello marchigiano ma nazionale in questi anni è stato sempre quello di interpretare le varie crisi che si sono rincorse e che hanno avuto sempre come il l'unico terminal il comune e quindi dove tutti i percorsi anche di di risanamento della finanza pubblica è passata attraverso dei sacrifici in mani del dell'ente locale che poi si è tradotto in in ricadute inevitabile sulle sulle nostre popolazioni perché significato non fare manutenzione significato non non rintervenire significato non fare investimenti significato anche non non poter non poter mettere in evidenza in modo adeguato le 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 grandi peculiarità del dei vari territori ecco dentro 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 questo percorso le i comuni si sono messi a disposizione per cercare di trovare soluzioni che potessero mantenere stessi servizi e con la lettura complessiva delle difficoltà di qualcuno dice parità di costi mica è vero abbiamo sopperito abbiamo sopperito il tarnover a 4 a 1 abbiamo subito il patto di stabilità che ha portato investimenti a zero e allora il tentativo o meglio il percorso della dell'associazione dei dei comuni per per guardare alle esigenze dei cittadini quelle nuove e quelle vecchie e dare e continuare a dare risposte ha avuto molte molte frenate e tante difficoltà ancora oggi nelle funzioni associate c'è la moratoria che lancia voluto per 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 evitare l'obbligo no delle tre funzioni associate tra comuni solo per dire dovete fare questo a prescindere dal risultato che poi riuscirete a produrre oggi oggi c'è una moratoria non ovviamente rimango assolutamente laico l'avevamo chiesto al precedente governo e c'era una proposta di lanci non voglio dire niente nemmeno che cosa si comporrà ma nei programmi di chi oggi va o si pensa di andare a governare tema gestione enti locali non l'ho visto scritto da nessuna parte ma nemmeno per sbaglio cosa cos'è vogliamo rifare il feudo vogliamo ridare valore ai piccoli comuni io una legge per i piccoli comuni nell'ultimo governo l'ho vista magari non adeguatamente sostenuta e non magari economicamente spinta ma c'è per la prima volta dopo 70 anni l'idea di valorizzare quei territori e quelle realtà che sono e che sono state poi lo dirò determinanti nella gestione anche di eventi straordinari come questi allora dentro questo percorso non abbiamo mai trovato una strada definitiva una strada sostenuta bene con il sisma 150 comuni circa interessati 148 per la precisione come diceva Davide prima trovano una piattaforma una nuova tecnologia dove tutti si adeguano e ognuno diventa protagonista non semplicemente subendo dall'alto ma ognuno con le proprie competenze le proprie capacità e anche vuol dire l'idea di mettersi in discussione riesce a gestire una proposta di trasmissione di dati di schemi di paradigmi omogenea su tutto il territorio tutto il territorio e guardate questo è un grandissimo risultato perché partivamo da situazioni completamente disomogenee e allora il tema non è quanto siamo stati bravi ovviamente in fase di emergenza perché in fase di emergenza non solo per piattaforme di quel tipo ma io penso a tutto quello a tutti tutto quello che hanno fatto uomini e donne che sono intervenute in una in una guerra come racconta spesso angelo in diverse occasioni che dura ormai da due anni e che non ci lascia nemmeno liberi sul piano del trasporto sul piano del sentimento sul piano delle difficoltà mi dico che quella è stata l'occasione per rendere quel sistema quella modalità poi ce la descriveranno nelle relazioni i tecnici per capire come si può semplificare come si può omogenizzare come si può mettere a sistema come si può si possono dare risposte omogenee a esigenze diverse perché questo è il grande obiettivo allora io guardo questo percorso con grande fiducia anche con la piena disponibilità dell'Anci Marche in questo rapporto strutturato in ogni occasione con la nostra regione per capire come un'esperienza così drammatica che permette poi di superare tutta una serie di elementi disomogenei per renderla elemento di sistema renderla elemento recuperabile su tutta la regione Marche ma perché no perché no può essere come dico sempre le grandi belle esperienze vanno copiate può diventare l'occasione per quel sistema di rete quella condivisione quel superamento di steccati che tanti comuni rivendicano e non riescono a saltare che invece questo bel progetto ci ha consentito e ci ha permesso di attuare e dico anche con risorse importanti ma non impossibili anche se lette su una scala nazionale quindi da parte nostra piena collaborazione attenzione attenzione a questo progetto e la volontà veramente di renderlo un'occasione in più per gli altri comuni e per le altre amministrazioni da utilizzare e da poter emulare grazie grazie sindaco e l'impegno dei dei comuni è stato veramente forte bene allora adesso per questioni di anche spazio sono scortese sindaco però siccome non ci centriamo e cambia e siamo un pochino come dire stretti quindi ti ringrazio molto ancora bene e poi poi dopo demanderemo grazie sindaco bene chiamiamo qua sul palco degli oratori e al microfono la dottoressa chiara prevete e quindi grazie la verrà installata la presentazione allora due parole per cercare di inquadrare la professionalità di chiara poi in protezione civile ci si dà sempre come per nome poi si rischia si rischia anche di essere scortesi avvocato laureata in giurisprudenza peraltro su questioni di natura ambientale quindi seguito a questioni di natura ambientale che sono noi peraltro molto vicine ma in questo momento con la luis guido carli sta gestendo un progetto di laboratorio per la governance e per la gestione di beni comuni e ci stiamo provando anche noi quindi esperienze in qualche modo come dire fatte più in termini didattici di costruzione teorica e ci siamo molto attenti e ti ascolteremo con molta attenzione a te buongiorno a tutti grazie mille per l'invito e infatti prima di iniziare la mia presentazione perché chiaramente con un supporto grafico più leggera devo dire che quando ho letto da amministrativista e da ricercatrice di diritto pubblico dell'economia autonomie locali ho subito pensato beh le autonomie locali in genere vengono concepite come in particolare istituzioni enti quindi gli enti diciamo locali però se siamo stati invitati diciamo qui è perché noi è interessante quello che diceva il sindaco sul coinvolgimento del provare a mantenere gli stessi servizi a dare risposte simili ad esigenze diverse e noi questo lo facciamo non solo con l'aiuto delle pubbliche amministrazioni perché questo non possono le pubbliche amministrazioni fare tutto questo ma proviamo a farlo con quello che noi chiamiamo la co-governance che adesso vi proverò sarà teorica ma non tanto nel senso che noi abbiamo portato avanti una serie di esperienze chi siamo? siamo un ente di ricerca della LUIS che però si sta espandendo anche in modo autonomo a livello internazionale quindi c'è un labgov a New York City c'è un labgov ad Amsterdam che si sta aprendo perché? Perché questo è un laboratorio nel quale sperimentiamo effettivamente la co-governance dei beni comuni quindi beni comuni non intesi soltanto in un'accezione diciamo teorica, tradizionale come Elinor Ostrom la concepiva come beni ambientali non è un caso che io venga da studi sull'ambiente ma anche come beni comuni e soprattutto come beni comuni urbani quindi come spazi e in genere qualsiasi area che la comunità sente come un bene comune perché Elinor Ostrom diceva questo che il bene comune è qualcosa che è concepito così dalla comunità stessa non è qualcosa che viene deciso come bene comune da una legge o da organi superiori e quindi all'interno di Labgov ci sono diversi soggetti anche studenti soprattutto perché il laboratorio è anche un laboratorio per gli studenti che attraverso la collaborazione negli orti urbani della città e di diverse città provano a sperimentare la collaborazione e quindi è prima di tutto un laboratorio universitario però dal primo anno di Labgov ormai dal 2014 noi abbiamo provato a sperimentare quello che chiamiamo co-città co-territori cioè noi siamo andati in alcune città italiane sia perché la pubblica amministrazione voleva implementare delle nuove politiche pubbliche sia perché le comunità hanno avuto bisogno della facilitazione del nostro ente e abbiamo iniziato a sperimentare delle politiche sia con le pubbliche amministrazioni sia con le comunità e abbiamo elaborato scusate se questa è in inglese però penso non ci siano problemi ora ve la traduco tutta abbiamo iniziato a sperimentare quella che è la co-governance che cos'è? noi riteniamo e in particolare il professor Cristina Iaione e la professoressa Sheila Foster di Georgetown hanno teorizzato che in una città, in un territorio esistono diversi livelli di governance esiste una governance condivisa e cioè quella in cui diciamo sostanzialmente i cittadini con un atto quella che in genere noi chiamiamo sussidiarietà i cittadini attivi decidono di prendersi cura di alcuni beni lo fanno in sostituzione della pubblica amministrazione anche se con l'ausilio della pubblica amministrazione e vi sono una serie di politiche pubbliche anche a livello nazionale ormai recepite anche a livello nazionale di agevolazione alle comunità per la condivisione vi è poi un livello più alto che è quello della collaborazione e cioè sostanzialmente i cittadini non vogliono soltanto essere dei cittadini attivi ma vogliono essere degli imprenditori civici vogliono iniziare a coprodurre servizi insieme ad altri attori sul territorio non si accontentano più soltanto di pratiche che sono assolutamente lo deboli che sono quelle della manutenzione della micro rigenerazione ma decidono di appropriarsi di spazi e di produrre servizi e questo come diciamo poi sostanzialmente al di là del livello teorico come viene fatto questo? viene fatto attraverso la costituzione di collaborazioni pubblico-private comunità e cioè sono forme di partnership noi tradizionalmente conosciamo dei partenariati pubblico-privati mentre diciamo l'elaborazione poi pratica di queste forme di partenariato possono essere declinate ad esempio in forme come i patti di collaborazione di Bologna di cui vi parlerò tra un momento oppure come i UCC o anche di Reggio Emilia i patti di quartiere che sono stati recentemente introdotti con un regolamento comunale oppure attraverso anche forme di politica regionale come in collaborato Scana e cioè forme in cui la pubblica amministrazione stipula dei patti con la comunità e in cui la pubblica amministrazione si fa piattaforma per agevolare queste forme non soltanto di condivisione quindi di piccoli interventi della comunità ma di coproduzione di servizi e da chi è composta però la co-governance sostanzialmente un po' oggi anche le persone che sono state invitate rappresentano quello che noi definiamo la quintuplica elica e cioè non più come nella concezione classica pubblico privato ma all'interno del pubblico e privato intesi in senso classico devono essere considerati altri tre attori almeno e sono le istituzioni cognitive quindi le scuole le università i soggetti che sono sul territorio che lavorano sul territorio da un punto di vista quindi scientifico e di coordinamento scientifico ma anche di scuole per iniziare dei processi anche con gli studenti i cittadini i cittadini semplici i cittadini attivi i cittadini che si costituiscono in rete informali ma anche i cittadini che decidono invece di farsi appunto imprenditori civici e quindi di assumersi anche il rischio di un'impresa e di una gestione di servizi e di beni e chiaramente a questi va aggiunto il sociale che non è identificabile con il cittadino o con il cittadino che si fa imprenditore civico ma il sociale che nel nostro paese noi sappiamo ha una forte valenza e una importanza fondamentale e qui cosa abbiamo qua quindi tutte queste diciamo cose teoriche poi le abbiamo provate ad applicare nel 2015 con il regolamento di Bologna che è stato scritto dagli studenti di Luis Labgov e hanno diciamo c'è stata quindi la partecipazione alla scrittura di questo regolamento che prevede proprio questo strumento dei patti di collaborazione che è uno strumento di disintermediazione tra la pubblica amministrazione e i cittadini ovviamente i patti di collaborazione in questo momento per quello che vi dirò fra un attimo sono oggetto anche da parte nostra di uno studio per capire qual è l'effettivo impatto che hanno questi patti e quali poi sono le differenze con gli altri strumenti giuridici esistenti e soprattutto stiamo lavorando a Roma in questo momento quindi vi faccio due esempi spot perché chiaramente non c'è tutto il tempo per parlarvi di tutti i progetti a Roma invece in questo caso la pubblica amministrazione è stata coinvolta in un secondo momento perché attraverso questo è co Bologna attraverso vado avanti così perché non voglio superare il mio tempo attraverso un protocollo metodologico quindi sostanzialmente abbiamo detto noi pensiamo che la governance vada strutturata su tre livelli il primo livello è quello della condivisione il secondo livello è la collaborazione il terzo livello è quello del policentrismo il policentrismo è quando tutte queste esperienze di cui vi ho parlato vengono messe a sistema quindi appunto in rete le rete delle autonomie locali per noi sono questo cioè mettere insieme i soggetti che su scala regionale in questo caso quindi tutte le città tutti i comuni ma non solo i comuni come ente esponenziale della comunità ma i comuni anche intesi come comunità che al loro interno decidono di costituire dei partenariati quindi e questo anche l'Unione Europea l'ha capito con il progetto Urbact perché sostanzialmente l'Unione Europea ha capito che bisogna mettere insieme le reti delle città bisogna mettere insieme diverse esperienze attraverso sì piattaforme digitali e quindi per provare a capire a condividere le informazioni ma anche attraverso le esperienze perché noi pensiamo che il metodo che è il nostro protocollo COSITIS che è quello di sperimentare le esperienze prima di ricavarne una norma una disposizione una legge sia fondamentale e noi quindi quando iniziamo un progetto proviamo a seguire questo protocollo metodologico di cosa si tratta inizialmente il leggere che cosa significa il leggere significa e ve lo dico in pratica quando abbiamo iniziato il progetto a Roma su una periferia che quindi una periferia romana che si trova nel sud est che ha dati attuali è la periferia che ha il più alto tasso di povertà e di disoccupazione tasso di immigrazione problemi di dislessia diciamo problemi su larga scala abbiamo fatto delle vere e proprie interviste cioè noi abbiamo somministrato dei questionari alle persone del luogo che chiaramente hanno poi individuato il loro lavoro sul parco pubblico di Centocelle quindi hanno deciso tutti insieme di lavorare insieme su un bene comune un common materiale però da questa esperienza che ormai dura da due anni dopo aver quindi somministrato i questionari parlato con loro capito quali erano i loro problemi e mappato il territorio abbiamo iniziato a praticare cioè abbiamo iniziato con loro a fare delle vere e proprie attività sul parco a fare dei laboratori di co-design cioè dei laboratori nei quali c'è tutti i cittadini che venivano all'interno di queste riunioni che diciamo in cui si utilizza un metodo assolutamente orizzontale in cui emergono le scelte di non solo i cittadini singoli ma di diverse associazioni sul territorio di diversi soggetti privati e alcuni enti pubblici chiaramente a Roma data la complessità sostanzialmente sono stati i municipi a partecipare e i presidenti dei municipi e i rappresentanti dei municipi e in seguito a questa pratica effettivamente è emerso che c'erano dei cittadini che a un certo punto hanno deciso va bene compriamo allora un pezzo del parco privato quindi di un'azienda privata e proviamo a fare a costituire una cooperativa di comunità al cui interno chiaramente oltre agli imprenditori civici diciamo c'era ci sono diversi soggetti adesso stiamo facendo dei laboratori di scrittura dello statuto della cooperativa di comunità e diciamo vi assicuro che le premesse con le quali è partito questo progetto erano assolutamente sconfortanti per la situazione di estrema conflittualità ed estreme problematiche del territorio però diciamo dai primi sei mesi del 2017 si è allargato lo scenario perché non era solo poi il municipio quinto a volersi occupare del parco e dei quartieri intorno ma le persone degli altri quartieri hanno iniziato a lavorare con noi e quindi si è allargata praticamente nel giro di due anni la governance praticando andando in tutti i quartieri e provando a fare dei progetti con e questo è senza l'ausilio assolutamente della pubblica amministrazione sempre con l'appoggio della pubblica l'amministrazione ma diciamo che ovviamente ha un contributo determinante penso soltanto adesso in questo momento hanno deciso con un lavoro duro abbastanza di tre mesi di fare una festa che sembra una sciocchezza però per unire tutte queste anime che si trovano sul territorio e chiaramente l'amministrazione ha deciso di agevolare in tutto in tutte le pratiche burocratiche e vi assicuro che è questa cosa questa diciamo la creazione di una cooperativa di comunità tre anni fa due anni fa quando iniziò del progetto era impensabile ovviamente la cooperativa di comunità è uno strumento quindi appunto siamo arrivati a prototipare la cooperativa di comunità e ovviamente arriverà anche il momento della valutazione e nel momento in cui la valutazione ci darà che cosa sostanzialmente ci darà ci dimostrerà che ci può essere un impatto socio-economico positivo perché poi alla fine la cooperativa di comunità si occuperà sostanzialmente di servizi culturali e di attività di rigenerazione del territorio quindi lo scopo è proprio quello di capire se questo tipo di soggetti possono poi dare sostanzialmente delle risposte in tema di welfare perché poi è di questo che stiamo parlando qui stiamo parlando di un territorio in cui c'è una percentuale di inoccupati altissima e questo potrebbe essere uno strumento con il quale chiaramente risolvere queste problematiche io non so quanto altro tempo ho non penso due minuti perfetto quindi sostanzialmente diciamo al di là del metodo e della strategia quindi dell'idea di partenza che abbiamo e degli strumenti giuridici di cui avrei potuto parlare ma ci vorrebbero diciamo circa tre ore sicuramente iniziare dei processi che sembrano astratti che sembrano assolutamente teorici o ad impatto zero anche dal punto di vista economico che poi è quello che diciamo che ha una importanza fondamentale per gli effetti poi le ricadute sul territorio sicuramente diciamo i due elementi cardini sono quello dello sperimentalismo e del coinvolgimento effettivo quindi non solo a livello di partecipazione dei cittadini ma di coinvolgimento effettivo delle decisioni dal anche secondo anche diciamo a cosa serve poi il chip talking quindi la fase iniziale capire effettivamente i bisogni perché anche in una problematica di ricostruzione senza la fase di conoscenza del territorio e non parlo soltanto del territorio materiale ma del territorio umano chiaramente e lo dico io che sono una giurista in teoria queste cose dovrebbero intervessarmi pochissimo però vi assicuro che quando io sono andata a Centocelle nel quartiere per i periferia pensando di voler fare la fondazione di partecipazione o la cooperativa di comunità due anni fa tutti ci hanno guardato dicendo qui c'è stata appena mafia capitale noi non vogliamo in nessun modo fare una cooperativa quindi ci sono anche delle logiche che vanno comprese e appunto senza queste secondo me senza un metodo senza una sperimentazione effettiva non non è possibile arrivare a a delle soluzioni diciamo condivise da tutti poi sostanzialmente grazie scusate la corsa grazie a te anche perché appunto hai indicato la necessità di trovare un modo di raggruppare interessi diversi su obiettivi comuni dopo la fase di emergenza ci sarà la fase di ricostruzione una fase molto molto come dire difficile in un tessuto urbano dove le multiproprietà richiedono accordi accordi che poi dopo devono essere proceduralizzati in progetti che riguardino aggregati quindi la necessità di trovare un punto di sintesi su interessi probabilmente diversi modalità d'approccio diverse ma su invece beni che sono comuni proprio fisicamente comuni sarà un tema quindi grazie della tua esperienza dopo magari apriremo anche un dibattito con sì sì perché ci avremo sicuramente delle domande perché adesso daremo la parola alla collega Paola Ciriaco ingegnere dell'ufficio speciale della ricostruzione che si occupa soprattutto di opere pubbliche in materia di ricostruzione quindi il respiro come dire al domani a quello che succederà a quello che è il superamento dell'emergenza quindi a voi come dire va tutto il nostro affetto perché ci avrete davanti direi no no affetto affetto perché i momenti di sconforto è giusto che magari vengano anche partecipati ma poi bisogna tenere duro e andare avanti a te Paola grazie grazie a tutti buongiorno allora io ho un po' bisogno di leggere perché per essere più che altro sintetica se no rischio di dire troppo allora mi occupo appunto del sistema informativo delle opere pubbliche che sarà lo strumento indispensabile per passare dal censimento del danno alla pianificazione degli interventi fino poi al monitoraggio degli stessi quindi dell'esecuzione delle opere allora vediamo se funziona no ah ok dove scusate ok 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 allora adesso faccio una rapidissima carrellata su quello che poi è già stato detto per quanto riguarda il livello di danneggiamento che abbiamo subito nel nostro territorio marchigiano è chiaro che le scosse del 26 e 30 ottobre hanno stravolto completamente lo scenario del danneggiamento in quanto inizialmente i quattro crateri delle quattro regioni sostanzialmente si equivalevano e con le scosse successive il danno si è allargato moltissimo verso il territorio marchigiano alcune foto degli edifici pubblici che hanno subito questo duro colpo sia elementi rappresentativi di un territorio come può essere non so la torre di Castel Sant'Angelo poco prima del crollo definitivo il municipio di Visso questa è una delle 160 scuole danneggiate in particolare questa è la scuola di Fiastra perché su 160 scuole 40 sono risultate immediatamente non utilizzabili quindi gravemente danneggiate e quindi ha richiesto tutta una gestione dell'emergenza spostamento dei ragazzi insomma 40 immediatamente fuori uso vi assicuro che anche e soprattutto per i comuni è stato un duro colpo da reggere e poi i danni poi si sono anche sviluppati su strutture essenziali come può essere l'ospedale questo è l'ospedale di Amandola e infine ecco un'altra scuola questa è la Capuzzi di Visso quindi queste comunità oltre ad avere danni personali ciascuno per la propria abitazione anche il tessuto proprio dei servizi è stato colpito e completamente azzerato e annullato sia negli aspetti rappresentativi ma anche in quelli proprio operativi allora i numeri del danneggiamento sono già stati dati nel senso che noi abbiamo è stato concertato proprio sul tavolo del coordinamento nazionale insomma che il 62% del danneggiamento è detenuto dalla regione Marche la restante parte è suddiviso tra Abruzzo Lazio e Umbria come abbiamo già detto i comuni del cratere sono passati dai 14 di agosto agli 85 di ottobre di novembre e questi sono i dati presenti sul sito del commissario però non dobbiamo dimenticare neanche il cosiddetto fuori cratere e aggiungiamo almeno altri 42 comuni io mi riferisco soprattutto al dato delle opere pubbliche forse 42 è minimo potrebbe essere di più però ecco opere pubbliche censite fuori cratere altri 42 comuni quindi parliamo di un totale di 127 su 236 comuni marchigiani quindi sostanzialmente oltre la metà opere pubbliche ma poi si riflette un po' su tutto il dato ecco questa è un'immagine della insomma della distribuzione del cratere quindi la linea rossa è quella che demarca le marche dal resto degli altri crateri ecco quindi questi sono i numeri che cosa significa allora innanzitutto partiamo dallo strumento normativo che ci è stato dato già da ottobre perché il 17 ottobre 2016 è stato emanato il primo decreto legge per la gestione degli interventi urgenti gli articoli 1, 2 e 3 sono quelli che descrivono e definiscono la governance che dovrà gestire questa emergenza barra ricostruzione insomma il processo di ricostruzione prevede dunque azione coordinata di più livelli di governance come stiamo dicendo insomma ovviamente all'apice della struttura c'è il dipartimento di protezione civile che è stato il primo ad intervenire e poi la struttura commissariale con l'intervento quindi con ottobre la nomina di un commissario straordinario la governance intermedia è costituita ovviamente dal regione Marche e dal suo servizio di protezione civile regionale al centro collochiamo l'ufficio di ricostruzione che è stato istituito con l'articolo 3 della norma quindi un ufficio che fa un po' da colla di tutto questo sistema diciamo il braccio operativo per quello che riguarda le azioni da compiere e la governance cosiddetta locale è quella che sta alla base di tutto il sistema quindi troviamo le province comuni le unioni montane e ho ritenuto opportuno ripetere anche la regione Marche perché è sì soggetto di governance ma è anche soggetto colpito quindi la troviamo anche alla stessa stregua del resto degli soggetti insomma dunque andiamo a vedere quali sono le azioni da compiere cercherò di essere sintetica perché le cose da fare sono veramente tante per quello che riguarda la struttura apicale c'è l'assegnazione delle risorse e l'individuazione dei criteri del loro utilizzo quindi i criteri ci vengono dettati dalla politica sostanzialmente dal commissario a questa compete l'approvazione dei piani quindi dei finanziamenti e gli indirizzi di attuazione mediante l'emanazione delle cosiddette ordinanze commissariali che sono lo strumento operativo e altro aspetto importante è il controllo del rispetto delle norme speciali e generali e per questo è importante diciamo l'introduzione di ANAC come soggetto che dovrà provvedere al controllo formale di tutti gli atti preventivamente alle gare d'appalto quindi è un ruolo assolutamente non secondario che ecco importante è una sorta di cerchiamo di arrivare prima che qualcosa si compia quindi questo è il ruolo dell'ANAC quindi probabilmente un esperimento forse di prima attuazione non so cerchiamo di arrivare prima per quello che riguarda invece la governance intermedia ovviamente a noi sta raccogliere tutti i dati che vengono quindi tutti i dati che vengono forniti dalla governance locale e quindi promuovere presentare effettivamente i piani che poi vengono approvati dal commissario e quindi ecco noi siamo diciamo il braccio operativo sul territorio di quanto a livello centrale viene definito ok aspetto importante è che inizialmente la prima stesura del decreto legge prevedeva che gli unici soggetti attuatori fossero la regione Marche e l'ufficio ricostruzione cioè assegnava tutti i compiti di gestione a questi enti è ovvio che diciamo il cambiamento radicale dello scenario ha fatto sì che si aggiungessero come soggetti attuatori anche le province i comuni e l'unione montane perché non potevamo gestire da soli una quantità di lavoro impressionante quindi lo stesso impianto normativo è stato modificato e diciamo anche per quello che riguarda le gare d'appalto inizialmente solo in Vitalia era soggetto deputato a fungere da centrale unica di committenza quindi un'unica centrale di committenza per le gare d'appalto impensabile assolutamente impensabile quindi cambiamento normativo che è stato fatto con dicembre quindi con l'approvazione del decreto collegato al decreto fiscale ha introdotto anche la SUAM e gli altri soggetti aggregatori regionali del Lazio Umbria e Abruzzo a fare le gare d'appalto che al momento competono solo ai soggetti aggregatori quindi i comuni per quello che riguarda la ricostruzione non faranno gare d'appalto cosa diversa invece per l'emergenza a cui invece hanno dato addirittura poteri derogatori rispetto al codice dei contratti anche se non sono qualificato visto l'emergenza posso operare quindi c'è una sostanziale differenza tra quello che è stata l'emergenza e quello che il modello che hanno previsto per la ricostruzione quindi una fortissima centralizzazione che abbiamo un po' superato concedendo ai comuni quanto meno la possibilità non solo di individuare il danno ovviamente ma anche di progettare i propri interventi perché la vera stazione appaltante la vera committenza non è il commissario non è la regione Marche ma è il soggetto proprietario del bene quindi ecco con la modifica normativa sono tornati ad essere soggetti attuatori anche i comuni e tutta la governance locale ok andiamo avanti allora volevo esporre velocemente l'utilizzo della piattaforma che è stato indispensabile per poter procedere all'attuazione dei primi piani di finanziamento adesso mentre ascoltavo gli altri interventi pensavo a questo al fatto che il commissario aveva già in mente l'utilizzo di una piattaforma unica per caricare gli interventi sulle opere pubbliche però noi abbiamo espressamente chiesto no lasciateci utilizzare i nostri strumenti perché la partita non è alla pari cioè noi abbiamo dei numeri che dobbiamo necessariamente gestire in autonomia se no non saremmo stati in grado di fornire tutto quello che più avanti vedremo quindi il 22 febbraio del 2017 sono state formalmente rilasciate rilasciato il sistema piattaforma SISMAP per il caricamento delle opere pubbliche all'interno del sistema generale equation work PA dove gli antipubblici erano già accreditati questo è il cosiddetto gruscotto di ingresso la parte che a noi interessa è quella relativa alle opere pubbliche a fianco trovate in azzurro la parte che come ha già anticipato Cesare Spuris è servita per coadiuvare il caricamento delle perizie giurate questa è una sezione che è stata inserita dopo perché ripeto far pervenire migliaia di perizie giurate contemporaneamente era impossibile se non mediante la piattaforma quindi la flessibilità è proprio questo man mano che mi si presenta un problema io devo gestire in maniera flessibile la stessa piattaforma quindi qui troviamo caricate sia le opere pubbliche ma anche le perizie giurate torniamo un attimo al discorso delle opere pubbliche quindi 22 febbraio abbiamo iniziato 16 maggio quindi nell'arco di tre mesi abbiamo chiuso la piattaforma per vedere cosa c'era dentro e grosso modo c'erano circa 4.000 schede di intervento queste 4.000 schede di intervento hanno avuto bisogno di un forte lavoro di bonifica perché i dati ovviamente potevano essere duplicati qualcuno ha caricato anche l'intervento agibile insomma alcuni interventi accorpati perché nel caso di edifici composti da più plessi è stato qui un lavoro di bonifica da cui è disceso all'incirca a maggio 2017 circa 1.900 interventi da eseguire per 2 miliardi e 100 e questo lavoro che sostanzialmente si è concentrato in 90 giorni ci ha permesso entro la fine dell'estate quindi tra luglio e settembre di emanare i primi piani le prime ordinanze in primis abbiamo l'ordinanza 27 che va in ausilio al discorso delle SAE quindi i comuni che avevano edifici pubblici adibibili ad appartamenti hanno preso un canale di finanziamento ad hoc per evitare che si facessero troppe SAE quindi questa è stata la prima ordinanza emanata poi successivamente l'ordinanza 33 il primo programma delle scuole che si affianca a quello dell'ordinanza 14 del commissario quindi le priorità abitazione la scuola e poi ordinanza 37 le prime opere pubbliche per 128 milioni di euro ripeto senza una piattaforma gestita in completa autonomia sarebbe stato impossibile andare sul tavolo del commissario con un programma di questa portata perché ecco i numeri sono elevati quindi volevo sottolineare l'importanza della flessibilità del sistema che per esempio è stato importante in questo senso noi io diciamo essendomi trovandomi alla prima esperienza pensavo va bene i comuni caricano i dati o tutti i dati belli perfetti li assembliamo e invece così non è perché man mano che lavoriamo man mano che iniziamo a lavorare ci accorgiamo di quello che manca ecco l'importanza della flessibilità il fatto che noi ci trovavamo a gestire contemporaneamente la fase emergenziale e avviare la fase di ricostruzione ci siamo accorti che molti edifici che il comune riteneva prioritario da sistemare per anche un discorso di far riprendere la vita collettiva insomma non tutti gli edifici pubblici erano pronti con i sopralluoghi Aedes quindi noi volevamo fare un piano di finanziamento che seguisse le priorità indicate perché questo era cioè i fondi ci sono dove li indirizziamo le priorità ce li danno i territori ma attenzione non siamo ancora al passo con i sopralluoghi Aedes quindi abbiamo inserito dei campi ulteriori all'interno del sistema dicendo hai bisogno del sopralluogo ti serve il sopralluogo del Mibat quindi questo è servito per concentrare l'attività di sopralluogo sugli edifici che dovevano essere avviati per primi verso la ricostruzione e questa attività è stata utile anche per gli stessi comuni che hanno avuto una guida nel senso qualcuno era anche disorientato a chi devo chiedere devo fare il Mibat insomma quindi è stato uno strumento di utilizzo per entrambi diciamo i soggetti sia ecco sia i comuni che chi deve fare il piano questo è all'interno il sistema della piattaforma dove abbiamo censito tutte le opere sono già presenti le opere finanziate quindi tutti i vari sottopiani divisi per ordinanza e ecco questo ogni scheda viene censita con un proprio ID dell'opera e questo sarà la carta d'identità dell'intervento dall'inizio fino poi alla fine perché questa piattaforma dovrà essere poi sviluppata per seguire tutto quello che sarà l'iter della gara di appalto i soggetti che operano in piattaforma come abbiamo detto oltre agli enti locali ovviamente troviamo le università le ASUR gli ambiti territoriali ottimali gli antiparco e altri soggetti l'unico problema che ha lasciato la norma è che non ha individuato ad esempio le università o le ASUR o le ATO come soggetti attuatori questo purtroppo fa sì che devono per forza essere coadiuvati dalla struttura regionale cioè non sono soggetti attuatori in senso stretto ecco questo è un problema una criticità che purtroppo va sottolineata i contenuti della scheda adesso cercherò di essere veloci comunque i dati geometrici del fabbricato l'intervento previsto i danni riportati quindi l'esito dell'Aides l'ordine di priorità dato dall'ente e c'è ah altro aspetto importante che è stato invece inserito sempre ex post quindi dopo l'avvio del sistema come ha anticipato anche il nostro presidente Cericioli è stato inserire l'indicazione con cui il comune intende farsi soggetto attuatore ecco quindi il comune si impegna a fare sì progettazione ma anche l'esecuzione del contratto quindi direzione lavori eccetera abbiamo chiesto questo impegno ok quindi passiamo dal programma delle opere pubbliche a quello che è un piano di finanziamento possiamo dire che al 12 aprile quindi sostanzialmente ad oggi nella prima colonna troviamo le categorie delle opere poi il livello di danneggiamento quindi sostanzialmente il programma degli interventi da attuare più o meno parliamo di circa 2600 interventi per 2 milioni e 400 mila euro dentro a questo troviamo anche il piano ANAS quindi forse il dato è un po' in esubero però il piano ANAS vale circa 400 milioni di euro a fianco invece troviamo i finanziamenti cioè i piani che sono stati redatti ad oggi sostanzialmente abbiamo finanziato il 74% delle scuole in realtà questo dato è un po' al ribasso nel senso che qui manca il dato delle donazioni le donazioni sono state un contributo fondamentale soprattutto per quello che riguarda l'edilizia scolastica quindi se aggiungiamo le donazioni siamo oltre il 90% e alcune donazioni hanno già realizzato l'opera 97% dei municipi caserme il 90% quindi 19 su 21 l'edilizia residenziale siamo al 75% poi abbiamo dissesti idrogeologici che sono stati inseriti in questa ultima fase questo è un contributo molto importante però anche qui sarà da discernere bene quali avranno effettivamente diritto al finanziamento perché sul dissesto idrogeologico verificare il nesso causale sisma danno in certo caso non è facile ecco queste sono le altre categorie le categorie presenti nella parola altro quindi edilizia sanitaria socio sanitaria universitaria abbastanza articolato il piano in sostanza abbiamo ad oggi quindi ad oggi finanziati 700 interventi per un miliardo di euro i beni culturali li ho messi separati perché questi sono i beni culturali che afferiscono al MIBACT quindi che sono diciamo i danni sui beni culturali di proprietà privata compresi quelli delle diocesi quindi li abbiamo scorporati quindi altri 300 milioni di euro possiamo dire che ad oggi siamo circa al 50% degli interventi finanziati ma questo diciamo non è niente rispetto a quello che dovremmo dovremmo attuare dovremmo fare ecco questi sono i dati presenti in piattaforma adesso cercherò di andare verso la conclusione allora a noi quello che serve a questo punto è sviluppare una piattaforma che ci consenta di gestire tutta la procedura della ricostruzione pubblica perché oltre avere la procedura ordinaria del codice dei contratti dobbiamo coniugarci con quelle che sono le disposizioni della legge speciale 189 soprattutto per quello che riguarda come avevo detto prima i controlli preventivi dell'ANAC quindi questa sarà una piattaforma dove i comuni andranno a appoggiare a posizionare i documenti che dovranno essere trasmessi all'ANAC per le verifiche preventive queste verifiche preventive dovranno essere fatte sia sugli atti delle gare di affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per valori di importo superiore a 50.000 euro quindi tutti i documenti devono essere controllati prima e lo stesso per le gare d'appalto dei lavori che superano i 150.000 euro cioè i 150.000 euro è nulla per una gara d'appalto cioè significa che le controlleranno tutte perché 150.000 euro è veramente niente ecco quindi il numero la complessità della procedura e il numero delle pratiche è tale per cui senza una piattaforma questa operazione è ingestibile cioè a livello con il sistema del protocollo e della PEC come ripeto è praticamente ci perdiamo gli atti dobbiamo essere sinceri ecco queste sono le varie fasi macro fasi del sistema degli appalti che dovranno essere gestite con la piattaforma quindi la progettazione possiamo dire che già qualche ente sta a buon punto con la progettazione per cui qualche opera pubblica entro la fine dell'anno probabilmente verrà appaltata la fase di approvazione del progetto e concessione del contributo gara d'appalto gestita come ripeto dalla SUAM esecuzione del contratto d'appalto questo il punto 4 è molto importante perché ci è stato proprio espressamente chiesto che la piattaforma deve essere trasparente e consentire l'accesso agli organi deputati e controlli per sapere chi c'è nel sistema delle opere pubbliche quindi noi dobbiamo caricare le imprese i subappaltatori insomma sarà un altro punto delicato quindi i dati dovranno essere accessibili anche agli organi di controllo e poi infine la parte la sezione 5 sull'erogazione del contributo e la relativa rendicontazione stiamo sviluppando insieme al servizio informatica quindi con Serena Carota il workflow quello che sarà il procedimento amministrativo del sistema degli appalti volevo dire sottolineare un altro aspetto il monitoraggio è importante non solo per dire a che punto siamo come sta andando ma soprattutto verificare se ci sono criticità che ci bloccano il processo perché ovviamente diciamo centrare l'obiettivo al primo colpo è difficile se non impossibile quindi è ovvio che potrebbe risultare necessaria anche una modifica normativa perché la stessa norma da qui nell'ultimo anno è stata modificata e non significa cioè questo non significa che non possa essere ulteriormente modificata per facilitare il procedimento quindi il monitoraggio è essenziale perché stiamo fermi perché non partono insomma questo è un aspetto fondamentale un altro aspetto che volevo sottolineare è che la piattaforma non deve essere l'ulteriore onere burocratico che il povero comune stremato deve trovarsi a compiere ormai da due anni sostanzialmente ma deve essere un vero sistema un vero strumento di facilitazione questo significa che deve essere assolutamente dialogare con tutti gli altri sistemi informatici quindi lo stiamo rendendo interoperabile con quello che è il protocollo ma anche la piattaforma gtsuam che è la piattaforma regionale per la negoziazione telematica e quindi è necessario proprio non duplicare il lavoro cioè cerchiamo di non appesantire questo è un aspetto assolutamente importante quindi i punti cardine sono la conclusione ho finito i punti cardine di questo sistema deve essere come abbiamo già verificato la flessibilità l'interoperabilità dei sistemi la conoscenza condivisa dei dati che è fondamentale per proprio dare anche gli elementi alla governance che deve decidere quindi conoscere i dati in tempo reale la dematerializzazione dei procedimenti che è uno degli aspetti dell'agid il cloud computing come dicevamo prima quindi il trasferimento e l'archiviazione dei dati informatici la trasparenza quindi l'accesso anche per i controlli degli organi deputati e ecco il concetto di modernizzazione amministrativa mi piace chiudere con questa immagine quindi l'idea di una piattaforma che serve per spiccare il volo speriamo speriamo presto ok grazie sì sì ne siamo convinti anche perché i procedimenti amministrativi richiedono la partecipazione di tanti soggetti che se convocati in modalità ordinaria diventa assolutamente impossibile per cui è anche uno strumento per dare attuazione alle conferenze di servizi virtuali che sono un ulteriore modo per procedimentale per arrivare all'approvazione dei progetti bene andiamo avanti con gli interventi che io tendo a non tagliare perché benché andremo magari alla pausa pranzo un pochino più più tardi però vorrei dare corso a tutti gli interventi in maniera come dire il più possibile completa invito Barbara Re professoressa di informatica presso l'università di Camerino per essere più precisi di business processes management and flexibility quindi fondamentalmente come dire questo tipo di materie dovrebbero essere oggetto della sua docenza e quindi staremo a ascoltarti con molta attenzione buon lavoro grazie buongiorno a tutti grazie alla Regione Marche grazie diciamo a Forumpia che aveva voluto organizzare questo evento qui su queste tematiche così importanti io diciamo a prescindere dalle tematiche diciamo introdotte sono un'informatica e voglio qui testimoniare diciamo il ruolo dell'università di Camerino come ente promotore di attività di crescita quindi di formazione per i nostri studenti di ricerca e anche di trasferimento tecnologico sul territorio nella prima slide che questa mattina ci ha fatto vedere l'università di Camerino era anche uno dei soggetti che è stato fortemente colpito dal sisma non è questo diciamo non voglio qui diciamo testimoniare quello che abbiamo passato il nostro slogan era il futuro non crolla e quindi qui oggi voglio darvi testimonianza del fatto che le attività di ricerca sono continuate e su queste attività di ricerca sui vari fronti quindi sul fronte dell'ICT in particolare ma anche su altri fonti noi non ci siamo mai fermati e abbiamo voluto dare uno stimolo forte ai territori su cui siamo per cui crediamo fortemente nella loro rinascita insieme a noi insieme ai nostri studenti insieme alla regione Marche insieme a tutti e quindi però venendo all'informatica diciamo al digitale perché oggi è questo il tema credo che il digitale e non sono l'unica ovviamente a dirlo sia fondamentale fondamentale per accelerare quelle procedure che avete dovuto in un qualche modo mettere in piedi fondamentale perché questa mattina l'ingegnere Spuri parlava degli archivi l'archivio di Arquata se fosse stato digitalizzato magari oggi era tra virgolette qui con noi o comunque diciamo sarebbe stato disponibile e quindi è fondamentale che gli investimenti sull'ICT e sul digitale siano sempre più presenti nelle nostre politiche di sviluppo siano sempre più presenti insieme diciamo al al tessuto economico diciamo che li sta anche portando avanti perché il ruolo della regione Marche e delle regioni più in generale della pubblica amministrazione è fondamentale ma al tempo stesso quando parliamo di ICT e di innovazione non possiamo non dimenticare oltre alle università ma non dovrei essere io a dirlo le imprese che di questo fanno il loro core business oltre che anche all'uso però purtroppo a livello italiano e poi diciamo non ho voluto proiettare questo grafo a livello regionale ma il trend non cambia poi molto nel digitale siamo indietro oggi diciamo questa attenzione qui in regione Marche risulta essere fondamentale perché è un ulteriore stimolo però non ci possiamo fermare dobbiamo investire su tutte queste tematiche perché se guardiamo il panorama europeo da cui nasce l'agenda digitale e quindi l'indice di digitalizzazione della della società il DESI ci fa emergere uno scenario piuttosto preoccupante se non permette di dire anche piuttosto drammatico perché essere terzultimi quartultimi su questa gradatoria su questo indice è piuttosto critico paesi che riteniamo in via di sviluppo sono molto più avanti di noi su queste tematiche e quindi di nuovo l'attenzione per il digitale per lo sviluppo di questi aspetti secondo me risulta essere fondamentale l'indice evidenzia vari aspetti la connettività se abbiamo parlato questa mattina di banda larga ultralarga il capitale umano e qui la formazione cioè il ruolo che le università e non solo chiaramente la mia università devono fare su questi temi oltre che all'uso delle tecnologie per la piena inclusione da parte dei cittadini perché tutti devono poter accedere in un qualche modo agli strumenti digitali immagino che l'età media della popolazione colpita dal sisma è piuttosto alta quindi anche su questo magari è ovvio si potrebbe fare un ragionamento sono tutti temi che nella loro diciamo complessità devono essere in un qualche modo affrontati e approcciati ora noi diciamo a Camerino abbiamo una sezione di informatica e formiamo quindi circa 200 studenti di informatica ogni anno perché crediamo che queste competenze di ICT possono essere fondamentali credo anche che nella riqualificazione del personale cioè di tutte quelle persone che purtroppo hanno perso il lavoro l'ICT possa giocare un ruolo chiave per la loro ricollocazione e questo ragionamento si contrappone al discorso che l'automazione riduce i posti di lavoro cosa che non è vera almeno vorrei sfatare questo mito perché l'ICT in qualche modo rivede il modo di lavorare e al tempo stesso pone ulteriori sfide che prima invece erano di altro tipo o dovevano essere affrontate in maniera differente quindi credo che non debba essere visto come un ostacolo bensì come un elemento trainante e di sviluppo ICT in generale più nello specifico tante diciamo sono le tecnologie che possono essere fatti al comune abbiamo parlato di portali ma magari possiamo anche parlare di tecnologie mobile perché per esempio chi sta facendo i sopralluoghi potrebbe essere dotato di strumenti mobile che favoriscono in un qualche modo la raccolta dei dati ma anche sensori sensoristica che in un qualche modo potrebbe essere inserita nelle nuove costruzioni nell'ottica di ricostruzione piuttosto che parlare diciamo di cyber security perché quando chiaramente portiamo i dati quando introduciamo tecnologia poi il tema della sicurezza e qui si parlava di di speed ma anche del sistema regionale fat cohesion a me è molto caro e devo dire che è stato diciamo un importante tassello che la regione Marche ha voluto mettere sul nella digitalizzazione delle proprie procedure perché l'autenticazione e l'autorizzazione risulta essere fondamentale in tutti questi sistemi e per ultimo ma non di minore importanza ovviamente ce ne sono altri il tema del cloud computing cioè la possibilità di poter portare di digitalizzare tutta una serie di procedure e renderle disponibili per questo voglio citare diciamo un tavolo di cui sono membro si tratta del tavolo regionale sull'agenda digitale evoluto diciamo dall'assessore competente ma anche diciamo dalla dirigente all'informatica perché tutte queste tematiche noi ovviamente a Camerino le affrontiamo ma non le possiamo affrontare da soli prima si parlava di co-governance è fondamentale questo aspetto le marche hanno sempre parlato al plurale e invece credo che nel momento in cui si faccia sinergia crescano veramente progetti di eccellenza il tavolo raccoglie le quattro università e credo che sia una delle poche esperienze che ci vedono insieme spero ce ne siano sempre di più ce ne sono di fatto sempre di più perché quando si fa sistema poi le cose cambiano di passo e cambiano di passo quando non solo le università si mettono insieme ma anche quando le università si mettono insieme con la regione con gli enti del territorio quando poi ci sono le imprese che contribuiscono a questo sistema e le scuole perché chiaramente dobbiamo partire dai giovanissimi e anche con loro fare un percorso di sviluppo in questo diciamo nel tavolo si evidenziano degli aspetti cioè le università hanno due ruoli fondamentali quello della ricerca e della formazione ma anche il ruolo della terza missione terza missione è quello di poter in un qualche modo portare i risultati della nostra ricerca in pratica e quindi dare in un qualche modo uno sbocco alle nostre attività quelle che prima citava diciamo attività più scientifiche diciamo per certi versi che però assumono un valore fondamentale quando poi vengono applicate perché altrimenti restano sulla carta se per certi versi e quindi parlando diciamo nel tavolo è nata insieme diciamo alla regione Marche questa iniziativa iniziativa del progetto Open City Platform che forse avete di cui avete già sentito parlare non voglio entrare nel merito nel senso non sono qui a raccontarvi il progetto nei loro dettagli ma portare il progetto come uno stimolo metodologico noi diversi anni fa oramai nel 2012 abbiamo accettato la sfida del MIUR in quel caso per lo sviluppo di un progetto università e imprese in partenariato con le pubbliche amministrazioni che erano sperimentatori ora in quel momento noi cercavamo di individuare una progettualità che era di frontiera nell'ambito della ricerca il progetto è andato avanti con mille difficoltà che non voglio chiaramente negare in questo consesso perché diciamo abbiamo recentemente firmato il contratto quindi capisco che la progettualità abbia avuto delle problematiche amministrative non date principalmente dal MIUR ma con quel progetto noi comunque abbiamo portato dei risultati risultati che permettevano da un lato di avere uno sviluppo del market cloud diciamo del cloud regionale in ottica più articolata dove un'infrastruttura IAS si sovrappone si metteva a disposizione per poi costruire una pass e dei servizi applicativi servizi applicativi che in un qualche modo venivano offerti con una governance multilivello e qui mi rifaccio un po' anche al tema del tavolo perché la regione giocava un ruolo fondamentale nei confronti delle amministrazioni del territorio come un intermediario dove chiaramente i comuni potevano sussidiare in un qualche modo il servizio dalla parte della regione ma al tempo stesso la regione era federata con altre regioni nell'ottica di un sistema nazionale dove le imprese chiaramente potevano offrire i loro servizi e al tempo stesso anche acquisire servizi da parte diciamo delle amministrazioni questo modello di governance si è strutturato su vari ambiti applicativi su vari servizi uno di questi è il SUAP si parlava stamattina dello sportello unico che è stato sviluppato a partire dall'ufficio speciale sulla ricostruzione e chiaramente la regione Marche aveva già un suo percorso di SUAP che si incastrava perfettamente perché essendo ente sperimentatore con il percorso che noi stavamo facendo dentro al progetto CP di SUAP perché anche noi volevamo sperimentare una soluzione SUAP ora che cosa ha significato questo nel momento del terremoto che cosa ha significato per la regione Marche in un qualche modo ha significato giocare un ruolo avere un ruolo un vantaggio competitivo perché dalla ricerca e da una pianificazione che si era già fatta poi era emersa un'esigenza cociente che ha portato chiaramente la regione Marche a fare il suo percorso ma al tempo stesso questo percorso era un percorso molto più consapevole perché di fatto si era già fatto un pezzo di strada e quindi anticipare a volte può essere molto utile per approcciare delle progettazioni che sono sempre più importanti per i nostri cittadini e per le nostre imprese poi tutto questo noi ovviamente l'abbiamo fatto grazie a un progetto MIUR ci sono ma in tante altre progettazioni la cosa fondamentale è trovare la sostenibilità finanziaria perché purtroppo è fondamentale fare degli investimenti allora ci sono le risorse europee che la regione ha a disposizione per i vari obiettivi e per la sua pianificazione sono fondamentali e chiaramente la regione sta facendo un percorso in tal senso ma ci sono anche altre risorse probabilmente conoscete il programma Horizon 2020 quindi che cosa significa che a livello europeo nel momento in cui uno si pone una sfida di frontiera può applicare per altri fondi che vanno in un qualche modo in maniera complementare a sviluppare il portafoglio regionale Horizon ma anche i programmi trasfrontalieri quindi queste sono progettazioni che possiamo fare insieme e che credo in questo momento che stiamo già facendo insieme per certi versi sia con la regione sia con alcune imprese del territorio ma dal mio punto di vista sono sempre più importanti per andare a completare quel parco di risorse che abbiamo già a disposizione quindi bisogna in un qualche modo mettersi a sistema valorizzare quello che abbiamo cercarlo di sfruttare poi nel migliore dei modi e se possibile farlo insieme con questo direi che concludo perché non voglio rubare altro tempo grazie sì Barbara allora demanderemo a una eventuale fase di colloquio ma mi unisco a ringraziamenti e alla attestazione di stima e coraggio perché voi ci avete un coraggio incredibile perché in un contesto fortemente colpito perché Camerino è cratere ma oltre ad essere cratere è una realtà come dire urbanistica importante è andata per la gran parte distrutta avete mantenuto comunque aperti tutti quanti servizi con una difficoltà estrema e spesso col rettore Claudio Pettinari ci si sente su questo argomento quindi vi va dato alto di questa resilienza concreta io proporrei anche un applauso a questo punto di abbiamo l'esperienza invece del comune di San Benedetto del Tronto che il comune di San Benedetto del Tronto ha introitato questi argomenti da tempo e Mauro Cecchi che è qui con noi grazie è il responsabile della gestione informativa di tutto quanto il comune e ci porterà l'esperienza di appunto il comune di San Benedetto su questo tema grazie e buon lavoro grazie a te David le slide puoi puoi metterle su per favore l'ho mandato comunque ce l'ho anche con me allora facciamo le mettiamo Marco è il mio tecnico quindi c'è un problema dopo ci sarebbe lo stesso il problema di caricamento delle slide ci prendiamo allora un minuto se dimentiamo tutte le informazioni Assessore a te ti facciamo fare le conclusioni per andare avanti con questo ok perfetto ok allora scusate l'imprevisto volevo innanzitutto ringraziare la regione per questo per questo evento e per l'invito che mi ha fatto e ringraziare tutti voi in qualità di ascoltatori e volevo cominciare in maniera abbastanza rapida perché cercherò comunque di stare nei tempi con quello che ha detto il sindaco ha detto una cosa molto importante ha detto che il terremoto nella sua grande tragedia è stato un elemento comunque di coesione un elemento che ha in qualche modo spinto risvegliato questo spirito di collaborazione tra tutti gli enti del territorio e tra enti del territorio e regione marche e questa è una cosa fondamentale nello sviluppo di questo progetto di cui vi parlerò perché è nato all'inizio è nato diciamo come un progetto qualunque scusate il termine con un'aggregazione iniziale di circa 30-35 enti del territorio poi lo vedete dalle date e da come sono andate le cose in mezzo nella voce in mezzo c'è il terremoto e questo qui non è stato un elemento che ci ha in qualche modo fermati ci ha fatto pensare ma adesso come facciamo ci sono comuni che non possono cioè non hanno più neanche qualcosa su cui lavorare in realtà è stato l'elemento che ci ha spinto ad andare avanti e come vedremo più avanti nella governance di questo progetto ci ha spinto anche a cambiare rotta nella gestione come vedete da queste slide c'è stata una proroga al progetto il bando è stato pubblicato a settembre del 2016 si tratta di torno un attimo indietro si tratta di questo bando azioni a supporto dell'integrazione tra i sistemi dell'APA è un è un POR è un FESR e il bando regionale appunto lo vedete qui si parlava di due azioni all'interno del bando per un totale di 2 milioni e 800 mila euro di dotazione finanziaria e progetti interamente finanziati dalla regione molto rapidamente l'intervento cioè l'azione 6-2 aveva come temi quelli che vedete qui ovvero l'integrazione con i sistemi regionali in queste cinque categorie in questi cinque interventi quindi andiamo diciamo dalla gestione dei pagamenti alla gestione della conservazione alla conservazione digitale alla banca dati dei procedimenti a Sigma Terra e così via io non mi soffermerò molto oggi su questi aspetti perché mi preme più far capire quale sono state le scelte di governance all'interno di questo progetto l'azione 6-3 invece riguarda fondamentalmente Open Data parla di Open Data nelle slide che seguono e che io salterò c'è un po' il dettaglio di queste linee di intervento ma ripeto non voglio entrare particolarmente nel merito voglio invece mi preme soprattutto far capire qual è l'idea l'idea del progetto è fondamentalmente questa da una parte a sinistra ci sono gli enti del territorio di questa aggregazione che alla fine oggi aggrega 64 enti del diciamo del Piceno e del Fermano sempre facendo riferimento a quello che diceva il sindaco mi piace anche ricordare che il terremoto è stato un elemento che ha in qualche modo fatto da ha riattivato un meccanismo di progettualità condivisa tra gli enti del sud delle Marche e la regione cosa che della quale noi ci siamo un po' sempre lamentati abbiamo sempre detto ma il sud delle Marche è quello un po' più ignorato da tutti quanti in realtà con questo progetto questa collaborazione direi sta ripartendo quindi sulla sinistra ci sono i comuni in mezzo ci sono le piattaforme regionali quindi lì ne ho indicate alcune sulla destra ci sono quelle nazionali quindi il discorso non finisce con le piattaforme regionali cioè tutti tutti i servizi che si intende integrare nel progetto transitando attraverso le piattaforme regionali che a loro volta parlano e diciamo colloquiano con quelle nazionali quindi in sostanza non è un'intermediazione questa che cos'è secondo il nostro punto di vista è quello di riconoscere alla regione un ruolo che secondo noi deve avere ce lo voglio dire per esempio quando parliamo di conservazione a noi piace che il patrimonio documentale degli enti dei comuni del nostro territorio rimangano nella nostra regione comunque pur di fatto poi facendo in modo che questi sistemi colloquino attraverso tutte quelle che sono le piattaforme attraverso tutto ciò che è definito nel piano triennale e quant'altro pensiamo che sia importante anche perché ci piacerebbe che la regione diventasse uno dei famosi poli strategici nazionali nel discorso del piano triennale e probabilmente questo è un modo per dar forza ai sistemi regionali il fatto che gli enti li usino veramente detto questo i numeri di questa aggregazione di questa sfida che stiamo affrontando devo dire una vera sfida perché parliamo di 64 enti tra comuni e comunità montane per un totale di oltre 360 mila abitanti con un importo di progetto complessivo di oltre un milione e 600 mila euro questi sono i numeri questi sono i comuni dell'aggregazione ripeto parliamo del Piceno e del Fermano una mappa che fa capire più o meno di cosa stiamo parlando ok questi sono dati puramente statistici che diciamo vi risparmio vi dico solamente che parliamo a livello di percentuale sul territorio regionale esatto di 19% ok scusate l'altro è per la popolazione ok quindi i progetti sono due come avete visto per la linea di intervento 6.2 e 6.3 l'azione 6.2 il progetto si chiama C-Square ed è il progetto che vi dicevo di integrazione con le piattaforme regionali ci sono obiettivi quelli che avete visto qui sono gli obiettivi di progetto ovviamente ma noi riteniamo che ci siano altri obiettivi da raggiungere che ho chiamato sistemici e si parla innanzitutto vogliamo rilanciarlo questo territorio il territorio ascolano e fermano incentivare la collaborazione fra le istituzioni e soprattutto fra le aree interne e le aree costiere vorremmo far sì che questo venga messo a sistema locale e regionale e creare anche una community di partecipazione tra le amministrazioni che vada oltre le ragioni del progetto e che dia anche una sostenibilità successiva a questo progetto vorremmo coinvolgere anche quelli che sono i fornitori del software perché qui ovviamente è molto importante questo discorso questo progetto si basa in maniera fondamentale sulla sulla collaborazione anche con i fornitori e naturalmente fare economia di scala questo è ovvio cioè in questo modo noi siamo riusciti ad ottenere dai fornitori che dovranno integrare i sistemi delle condizioni estremamente particolari non vi sto a dire qual è stato l'approccio che è stato un approccio molto complesso perché abbiamo incrociato fornitori sistemi informativi dei singoli enti con le azioni e con gli interventi ok la seconda azione la seconda azione è più divertente tra virgolette è un argomento dove si può giocare di più parliamo l'abbiamo chiamato questo progetto social e open data e fondamentalmente si tratta di alimentare il sichen regionale quindi l'infrastruttura degli open data regionali con gli open data che provengono da tutti gli enti di questa aggregazione e non solo speriamo open data di tutti i tipi quindi dal turismo al territorio a tutte le strutture negli ambiti comunali nel discorso per esempio degli edifici dell'utilizzo degli edifici ad uso pubblico e vedete anche altre cose e l'obiettivo è quello chiaramente di aumentare il numero dei dataset pubblicati qui ci sono i dettagli sui quali non scendo non scendo neanche qui dove si parla anche di altre cose beacon eccetera poi le slide immagino che saranno disponibili per chi vorrà approfondire anche qui molto importante gli obiettivi sistemici per noi quindi la sperimentazione di modalità social per acquisire informazioni coinvolgere la popolazione attraverso canali social e attraverso anche eventi di altro tipo tipo contest hackathon e quant'altro e mettere soprattutto a disposizione di tutti gli enti dell'aggregazione un un sistema di formazione permanente di formazione non solo anche di 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 sussidio anche di una sorta di help desk chiamiamolo così fra tutti gli enti che diciamo per fare una sorta di comunità di pratica online che duri nel tempo anche al di là dei 30 mesi progettuali sugli open data mi piace spesso far vedere questa cosa cioè da una parte negli open data c'è chi ce li ha i dati e da quell'altra c'è chi li usa il concetto fondamentale è questo non ce n'è molto altri quello che analogamente a quanto detto prima speriamo di fare con questo progetto è a sinistra avete i comuni a destra ancora una volta c'è l'infrastruttura della regione Marche e fino ad arrivare a open data gov cioè anche in questo caso il dato poi verrà a sua volta diffuso anche attraverso i canali nazionali e sulla destra vedete ci sono gli utilizzatori di questi dati che vanno da i comuni cittadini altre istituzioni le imprese le associazioni sul territorio e quelle in basso quella macchinetta che sta in basso quelli che io ho chiamato in una precedente esperienza che abbiamo fatto nel nostro comune in occasione dell'open data day gli spaghettificatori cioè quelli che prendono quelle macchine quelle persone che fanno queste macchinette prendono gli open data in qualche modo li trasformano li rendono fruibili e riescono a tirare fuori delle informazioni straordinarie in questo evento che abbiamo fatto erano presenti questi ragazzi che vedete qui che sono veramente eccezionali il tema era quello della diciamo della ricostruzione ovviamente post sisma il tema era quello della trasparenza della ricostruzione attraverso gli open data e se vi andate a vedere questi siti vedete veramente delle cose bellissime con questi dati riescono a fare riescono a tirare fuori informazioni che spesso sono nascoste e non evidenti e non per effettuare per fare per controllare qualcuno non è non ho visto in loro questo spirito quello di controllo ma semplicemente lo spirito se si può se si capisce che qualcosa non va e riusciamo a migliorarla sicuramente è un bene per tutti questo ecco era un'annotazione che mi piaceva fare su queste persone magari qualcuno di noi ha fatto esperienze di open data qualcuno ha messo in piedi il suo secane qualcuno lo ha fatto in modo diverso eccetera purtroppo è successo per lo meno per noi ma penso l'esperienza non sia solo la nostra è successo quello che vedete cioè da una parte sulla sinistra in alto le risorse finanziarie che sono sempre di meno a sinistra al centro anche le risorse umane lo sapete negli enti è così la situazione e i carichi di lavoro il carretto col mulo quello è il carico di lavoro che purtroppo non fanno altro che aumentare e quindi cosa dicono le persone che stanno all'interno degli enti eh sì mo ci manca pure che faccio io open data il concetto purtroppo è questo allora la nostra idea si è basata su questo facciamo open data in ebatto non l'abbiamo chiamato noi cioè in qualche modo facciamo sì che tutti i software che tutti i sistemi informativi degli enti quindi tutti i loro fornitori ancora una volta mettano qualcosa nel loro software in modo che nel momento in cui si preme il famoso pulsante gli open data vengono pubblicati cioè ci sia una pubblicazione continua di questi open data ma che non richieda un supporto un impegno delle persone all'interno dell'ente devo dire che questa cosa qui io ci tengo molto a sta cosa quindi per me è un elemento molto rilevante del progetto e spero spero che possa funzionare a luglio dell'anno scorso abbiamo avuto l'approvazione dei progetti abbiamo avuto finanziamento sull'intervento 6.2 per 1.124.000 euro e rotti e sulla linea 6.3 per 481.000 euro e rotti qui vedete i totali vedete ancora qualche qualche dato e una cosa molto importante fondamentale cioè prima vi ho detto che nel momento del terremoto questa cosa ci ha spinto ancora di più a fare per i comuni questa era già una sfida grande dopo il terremoto è diventata si è decuplicata la sfida ma l'abbiamo voluto fare perché noi vogliamo far arrivare anche ai comuni del terremoto i comuni noi ci abbiamo dentro i comuni più disastrati tra i più disastrati oltre ad avere comuni piccolissimi comuni dove già c'erano due impiegati siamo arrivati a comuni con due impiegati e in più anche terremotati quindi abbiamo fatto voglio andare un attimo avanti in questa cosa abbiamo fatto questo discorso qui dice non facciamo lavorare i comuni in meno possibile cioè facciamo in modo che i comuni ricevano abbiano questi servizi alla fine del periodo progettuale abbiano questi servizi e anche come avete visto prima tutta una serie di altre cose accessorie che serviranno a dare poi sostenibilità nel tempo al progetto facendo in modo che loro facciano il meno possibile e qui ci sono state una serie di riunioni importanti con la regione perché in realtà l'approccio inizialmente era completamente diverso cioè era quello che il comune capofila in realtà era capofila per modo di dire era capofila solo per la presentazione dei progetti ma poi in realtà nella pratica faceva ben poco come capofila e quindi su questo abbiamo dovuto discutere molto con la regione con l'ente di gestione e alla fine questa linea è passata questa linea è passata e quindi in pratica noi come ente capofila faremo tutte le gare terremo tutti i rapporti con i fornitori pagheremo riceveremo le fatture rendiconteremo per nome e per conto di tutti i partner vabbè lì ci sono degli aspetti contabili che non sono rilevanti in questo momento quello che dovranno fare i singoli enti è veramente il minimo indispensabile cioè approvare in pratica diciamo verificare verificare il servizio che ricevono noi chiediamo solo questo ai comuni ok ecco chiediamo solo questa cosa qui quindi di verificare l'effettivo funzionamento del software che viene installato presso di loro ok tutto questo naturalmente lo abbiamo ufficializzato lo stiamo ufficializzando attraverso degli accordi di partenariato che dettagliatamente riporteranno questi aspetti io ho finito spero di aver fatto capire qual è lo spirito della cosa e qual è l'esperienza che abbiamo avuto un'esperienza molto pratica che secondo me potrebbe essere magari alla base anche di altre esperienze di questo tipo di niente scaturisce sempre più spesso la come dire capacità aggregativa delle piattaforme informatiche che fondamentalmente ci costringono a dialogare almeno quantomeno per come dire trovare un linguaggio comune bene allora Andrea Pellei Andrea Pellei collega dirigente della regione Marche si occupa soprattutto di programmazione di fondi e nazionali e unionali comunitari e quindi un ruolo importante nella gestione della post emergenza a te Andrea grazie Davide grazie al al forum PA e anche alla PF informatica insomma che ha organizzato che gestisce tutto questo tutto questo evento diciamo che il mio intervento è abbastanza specifico cioè si occupa degli iti aree interne però in qualche modo diciamo che si riaggancia a dei temi importanti che ci sono oggi che si discussi oggi cioè quindi in particolare quello mi riferisco alla governance multilivello che vede insomma che è fortemente stressata in questo in questo tipo di progetti e poi anche nell'adattamento che due che due aree interne stanno avendo all'evento sismico quindi anche la reazione e la modifica di un programma in seguito a questo a questo drammatico evento quindi questo si passa avanti così forse sì dunque le aree interne chiaramente già dal titolo le aree interne sono aree che soffrono indipendentemente da eventi catastrofici sismici dei rischi importanti di spopolamento e marginalizzazione e a partire dal 2014 all'interno già del piano nazionale di riforma il governo ha adottato una strategia nazionale la cosiddetta SNAI la strategia nazionale per le aree interne che ha portato ad individuare in maniera insomma anche scientifica con dei criteri di calcolo e delle individuazioni molto precise quelle che potevano i comuni le zone d'Italia che potevano essere individuate come aree interne sulla base di una distanza da centri di offerta di servizi centri di offerta di servizi che sono stati indicati come i servizi di istruzione servizi di salute servizi di mobilità tutte le aree insomma che interne montane che presentavano questi problemi e che quindi soffrivano di questo problema di spopolamento di marginalizzazione sono risultate pertanto diciamo ammissibili a questa qualifica di aree interne per la regione Marche questo già nel 2015 2016 sono state individuate via via progressivamente perché poi come vedremo tre aree interne la prima quella che vedete sulla sinistra in questa slide l'area pilota perché diciamo questa SNAI la strategia ha individuato un diciamo un ufficio centrale il comitato per le aree interne nazionale presso la presidenza del consiglio che in qualche modo supporta i comuni le unioni dei comuni la regione nel in tutto il processo che come vedremo è anche abbastanza complesso è stato parzialmente semplificato per le aree interne dell'area Sisma però è un complesso è un processo che ha una sua complessità sono state individuate queste tre aree e la prima l'area pilota di Pesaro Urbino Ancona fa parte appunto di queste aree pilota individuate una per ciascuna regione e la nostra in realtà questa area pilota Pesaro Ancona diciamo che come stato di avanzamento al momento è tra le più avanti perché poi vedremo è stata firmata diciamo l'accordo di programma quadro a maggio 2017 e adesso sono state diciamo versate le prime risorse e sono cominciati i primi interventi che consistono in bandi o in gare per acquisizione di servizi sulla base di una strategia condivisa che vedremo poi velocemente le altre due aree interne selezionate in momenti successivi sono state poi quella di Ascoli Piceno anzi prima quella di Macerata la seconda area e poi quella di Ascoli Piceno questa è un po' l'indicazione su base su base regionale ecco questo velocemente il quadro finanziario perché oltre a rappresentare una problematica di governance multilivello perché come vedremo c'è lo Stato centrale c'è la regione ci sono i comuni ci sono le unioni montane c'è anche un'ulteriore complicazione nel senso che è un programma multifondo che è una ricchezza da un lato perché come vedete sulla colonna di sinistra abbiamo le risorse Stato che sono messe a disposizione con tre successive leggi di stabilità diciamo nel 14 per la prima area pilota quella del 15 per l'area di Macerata e la legge di stabilità 2016 per l'area di Ascoli che hanno stanziato complessivamente 11,22 milioni di euro per tutti quei servizi più che che rivestono carattere nazionale quindi quelli relativi alla scuola alla mobilità e alla salute a queste risorse 11,22 qui parlo complessivamente delle tre aree interne selezionate dalla SNAI si sono aggiunte ulteriori risorse sul FESR quindi questi 6,8 milioni 5,3 milioni sul piano di sviluppo rurale perché come capite facilmente insomma sono aree per le quali lo sviluppo rurale è particolarmente importante e significativo oltre a 3 milioni di euro sul Fondo Sociale Europeo che sviluppano tutta una serie di iniziative per esempio anche per la formazione del personale dei comuni attività di capacity building di miglioramento dei profili diciamo di formazione professionale di tutte le persone coinvolte per un ammontare complessivo di circa 26 milioni di euro per tutte e tre le aree interne con la ripartizione che è indicata di sotto quindi 9,44 per la prima area pilota 8,5 per l'Alto Maceratese e 8,5 per il Piceno questo insomma un po' il quadro finanziario che vi fa capire che ecco la governance è complessa ma è complesso anche il discorso del multifondo le componenti della strategia si riferiscono in particolare come vi dicevo il motivo che determina l'inserimento in un'area interna è dovuto anche dalla distanza da questi servizi essenziali quindi la strategia naturalmente mira a contrastare questi problemi attraverso diciamo il ricorso ad iniziative e a progetti che sviluppano diciamo una condivisione di progetti e di iniziative per rendere un sistema per esempio per la salute più fungibile dei cittadini accorpare magari cercare di accorpare le strutture dell'istruzione o rendere per esempio il collegamento tra i comuni verso queste strutture verso le scuole più facile e come diciamo tecnologia abilitante la banda larga che segue anche un percorso a sé perché comunque sono zone tutte zone che si trovano in area bianca e quindi per le quali il progetto Bull interviene in maniera importante l'idea guida strategica è quello che dice pensiamo a quello che potrà essere l'area tra vent'anni contrastando questa tendenza allo spopolamento e cercando attraverso iniziative che poi ogni ogni area interna sviluppa autonomamente perché è un progetto che viene sì coordinato dallo Stato centrale però è un progetto diciamo bottom up che parte dalle esigenze del territorio quindi si punta per esempio sul turismo sul rilancio di attrattori culturali sul rilancio di criteri guida di ciascuna area interna per immaginare quello che potrebbe essere l'area tra vent'anni e puntare a contrastare questi fenomeni di spopolamento la governance multilivello come vi dicevo qui per dare un'idea della complessità c'è sia l'agenzia per la coesione territoriale che la struttura di riferimento qui vediamo il plurifondo quindi sia il FESR che il PSR attraverso il FESR sia il Fondo Sociale Europeo il governo nazionale che interviene come vi dicevo con le leggi di stabilità per la messa a disposizione di risorse e una regia da parte della Presidenza del Consiglio il Comitato Tecnico Area Interne che si occupa appunto di valutare dapprima i preliminari di strategia poi la strategia d'area e poi portare sia i ministeri coinvolti sia il soggetto attuatore sul territorio alla firma dell'accordo di programma quadro che contiene le schede intervento poi vediamo i tre progetti in che fase sono le regioni e i comuni che che insomma supportano in tutta questa attività e mettono a disposizione le risorse territori locali e associazionismo che devono fare che sono i portavoce che rappresentano le esigenze del territorio e una struttura di sopporto a aree interne che anche attraverso task force di consulenza aiuta nella predisposizione della documentazione per la realizzazione del progetto quindi qui ricapitolo velocemente quello che ho detto prima c'è il livello centrale la regione che gestisce il programma operativo l'associazione dei comuni che sono naturalmente i partner privilegiati per la definizione della strategia di sviluppo dell'area adesso vado velocemente a vedere le tre aree pilota qui abbiamo la prima quindi l'area pilota Basso Appennino Pesarese Anconetano la prima che è partita ed è quella che comincia veramente a riversare i suoi effetti sul territorio come vedete è abbastanza diciamo piccola nel senso sono nove comuni e questo forse è stato anche un po' il segreto del suo successo insomma nel senso che sono pochi comuni e sono anche diciamo hanno una grossa unità di intenti quindi hanno una grossa finalizzazione degli obiettivi tra l'altro è una zona che ha risentito solo marginalmente del sisma e quindi chiaramente questa non ha modificato alcun tipo di strategia nel suo percorso di approvazione in questo caso l'accordo di programma quadro che è il documento molto importante che vedremo arriva dopo un percorso diciamo amministrativo abbastanza lungo l'accordo di programma quadro tenete conto che viene firmato tra almeno tre amministrazioni centrali perché c'è il ministero della salute ministero dell'istruzione poi a seconda di quello che si vuole attivare il ministero dei beni culturali l'agenzia della coesione la regione marche e il soggetto attuatore capofila quindi è un è un accordo che ha degli impegni importanti ma c'è anche un percorso amministrativo lungo e complesso quindi questo è stato approvato ad aprile 2017 la pq contiene tutte le schede intervento quindi tutto un dettaglio è come se fosse un programma operativo all'interno di un programma operativo a partire dall'approvazione dell'accordo di programma quadro possono cominciare ad uscire i bandi che a quel punto sono a titolarità del soggetto attuatore del soggetto coordinatore e questo è quello che sta succedendo adesso siamo in questa fase la regione ha riversato almeno per quota parte del FESR le risorse all'area pilota e adesso il soggetto attuatore è impegnato nella fase di spesa di queste risorse anche perché poi ecco come soggetto diciamo come autorità di gestione del POR siamo anche interessati al fatto che queste risorse vengano spese perché hanno delle scadenze che cosa si fa con queste risorse qui abbiamo velocemente i risultati attesi alle azioni il progetto del basso appennino pesarese anconedano si chiama asili di appennino asili inteso chiaramente non come ospitalità ai bambini ma come accoglienza come un tentativo di sviluppare l'accoglienza in questi territori sono stati individuati una serie di luoghi strategici quindi qui c'è una parte diciamo fisica importante di recupero di edifici simbolo uno per ciascuno dei comuni dell'area questo per quanto riguarda diciamo l'attività di incremento turistico ci sono poi attività come risultato atteso di miglioramento della gestione dell'ambiente e queste sono attività invece più trasnazionali più diciamo più trasversali che riguardano tutti i comuni come pure il miglioramento dei servizi di istruzione e formazione il miglioramento dei servizi sociali e sanitari quindi l'utilizzo cioè diciamo la spinta sull'utilizzo della telemedicina negli ospedali di comunità la gestione della cronicità nelle aree interne una piattaforma per la salute e il welfare e una rete delle strutture residenziali e semiresidenziali questi sono diciamo tutti i risultati attesi e come vengono declinati in corsivo nelle azioni altri risultati attesi riguardano la capacità amministrativa e l'organizzazione integrata dei servizi comunali la riduzione del digital divide torno un po' insomma anche all'argomento della giornata in questo caso quindi non parliamo solamente dell'infrastrutturazione che segue un suo percorso ma un tentativo di graduale accentramento delle componenti hardware e software per sviluppare un sistema informativo unico a tutti i comuni quindi in questo senso un'attività anche simile a quella descritta in precedenza dal collega di San Benedetto su scala diversa perché più piccola e magari più centrata sui servizi di progettazione questo affiancato ad azioni di formazione che vengono finanziate sul Fondo Sociale Europeo e poi le attività di miglioramento della mobilità attraverso un nuovo sistema di mobilità condivisa una ciclovia turistica per la valorizzazione per il tentativo di attrarre turisti nell'area e lo sviluppo della grande via dei parchi questo in estrema sintesi qui abbiamo il riparto perché come vi dicevo questo è il progetto più maturo quindi a valle della stipula dell'APQ ci sono state sviluppate tutte schede intervento da qui non si capisce niente però come vedete per la maggior parte di queste schede intervento c'è un cofinanziamento che dipende da più fondi e questa come vi dicevo è anche un po' la complessità della gestione delle schede però tutte sono state definite alcune sono già partite altre sono in via in via di emanazione questo per per quanto riguarda la prima area pilota che è già partita qui l'impatto del sisma questa è una cartina che ormai oggi abbiamo visto e rivisto in più occasioni diciamo l'area grigia più piccola è il primo terremoto quello del 24 agosto con quella grigia più estesa vediamo l'allargamento agli 87 85 comuni 87 c'è l'accorpamento comunque va bene insomma sono quelli indicati in grigio in quelle aree lì vedete come insistono le aree interne cioè c'è l'area interna più in alto che è quella del nuovo maceratese che come vedete si trova integralmente all'interno dell'area cratere e quella sotto invece è l'area interna di Ascoli Piceno che è praticamente tutta compresa mi sembra che Scarassai rimanga fuori è un comune che rimane fuori dall'area interna sono anche riportate le aree interne delle regioni limitrofe cioè quella Valnerina dell'Umbria e una del Lazio e una dell'Abruzzo perché come potete immaginare quasi tutto l'arco appenninico soprattutto questa zona qui al di là della regione Marche è interessato dalle aree interne perché i fenomeni di spopolamento naturalmente coinvolgono tutti per queste aree interne è stato adottato diciamo un percorso verso l'APQ semplificato perché il meccanismo diciamo ordinario è quello che prevede la stesura di una bozza di strategia tutto questo viene via via valutato attraverso anche iniziative sul campo che vengono proprio da Roma i colleghi del CTI cioè del comitato tecnico aree interne e svolgono incontri sul territorio e scrivono insieme a loro prima la bozza di strategia poi il preliminare e poi la strategia con le scade intervento l'idea per queste due aree interne del diciamo del maceratese e del piceno è quella di concentrarsi su temi prioritari quindi un ufficio unico che può riguardare da un lato un ufficio unico comunale che si occupi di progettazione ad esempio e poi il tentativo di razionalizzare l'istruzione questo come sapete è anche il più difficile di tentativo perché l'approccio che sta passando è che i comuni vogliono in realtà costruire ognuno la propria scuola però uno degli obiettivi diciamo non solo della regione ma anche di questi progetti sarebbe quello di razionalizzare le istituzioni scolastiche però questo è un obiettivo vediamo i risultati quali saranno l'impegno da parte di Roma è anche quello di approvare velocemente la strategia e le schede intervento e anche per consentire di mettere a disposizione velocemente queste risorse che nel caso delle aree pilota ma non solo per l'Italia ma tutto il territorio nazionale il percorso amministrativo altrimenti richiede quasi due anni dalla bozza di strategia all'approvazione dell'accordo di programma quadro il tentativo è quello di accelerare di supportare in maniera ancora più importante i territori per insomma divenire la stipula in tempi più ragionevoli questo insomma ve lo risparmio insomma è un po' la slide di prima messa a blocchi il tentativo di di snellire ci siamo? no ci siamo però di fare un APQ magari intanto stipularlo su poche idee guida approvarlo partire con queste e poi successivamente magari integrarle e questa è la strategia per le zone sisma velocissimamente allora faccio solo vedere quello che è stato individuato perché ancora non le schede intervento per questi territori non sono non sono non sono ancora state state individuate questi sono i 17 comuni come vedete qui il problema è che il problema sono tanti quindi ognuno con le sue istanze con le sue esigenze e anche qui è necessario che da parte del territorio ci sia una regia forte da parte in particolare di quello che è il comune capofila e il sindaco di riferimento in questo caso lo stato di avanzamento è stata redatta la bozza è stata già approvata si sta lavorando al preliminare con l'idea di lavorare a una strategia semplificata quindi dicevamo con poche idee guida e arrivare all'approvazione dell'APQ entro l'anno al momento le idee che sono alla base della strategia per l'alto maceratese la qualificazione dei servizi di cura lo sviluppo di una strategia di rete tra le piccole scuole quanto meno che si crei una rete se non si possono accorpare miglioramento della mobilità riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche consolidamento e modernizzazione dei sistemi produttivi quindi anche con aiuti alle imprese aiuti al commercio per cercare di favorire la tipicità le caratteristiche le peculiarità del territorio e il restauro c'è una piccola riserva anche per l'attività di restauro e recupero di beni culturali per l'area del Piceno che è la terza area che è partita invece si punta di più su un'attività di turismo e benessere poi vedremo anche velocemente quello che è anche in questo caso è stata redatta una bozza di strategia si sta lavorando al preliminare in questo caso quello di Ascoli sta quasi cercando di chiudere la bozza di strategia entro aprile probabilmente riuscirà a chiuderlo anche prima di Macerata pur essendo partito più tardi perché forse lì ecco c'è un'unità di intenti un po' più più alta le iniziative per lo sviluppo economico e l'incremento turistico qui non ce ne sono come nel caso del Pesarese una per comune ma sono state individuate delle filiere che puntano più che altro sul turismo outdoor sul turismo religioso e culturale turismo enogastronomico e lo sviluppo dell'offerta dei servizi di comunità però qui come vi dicevo ancora siamo nella fase di scrittura delle schede di dettaglio quindi queste sono idee già condivise con la regione e con la struttura nazionale però che sono in corso in via di sviluppo io velocissimamente cerco di chiudere qui perché credo che ci siano altri colleghi grazie Andrea dopo vedremo anche come non sovrapporre interventi finanziati da fondi di costruzione con fondi provenienti da fonte europea insomma si parla di scuole Paola ha parlato di scuole tu hai parlato di scuole poi dopo ah ecco ecco quindi insomma la domanda è apparentemente sciocca invece insomma se mi state digrando allora adesso io darei la parola a Donatella Settimi Donatella Settimi della posizione di funzione informatica crescita digitale Donatella la presento con un come dire in maniera un pochino particolare perché è la persona che a tutte le ore del giorno della notte del sabato della domenica viene interpellata per quella modellazione step by step del sistema della piattaforma informativa necessaria per adeguarsi alla continua evoluzione delle ordinanze di protezione civile quindi fondamentalmente questa vuole essere anche una come dire un plauso alla diciamo componente tecnica interna le pubbliche amministrazioni che non fanno come adesso non me ne vogliono i privati che forniscono un servizio e poi se non hanno come dire la evoluzione e il finanziamento per la loro evoluzione scappano ma qui c'è la cura per il dettaglio mentre la partita va e siccome la partita è molto lunga e molto diversificata avere delle risorse interne diventa una questione fondamentale a te la parola grazie grazie per le parole grazie buongiorno a tutti sarò molto breve così ricoprirò un po' di tempo io vi presenterò il sistema coagio work piachi uno dei primi sistemi che la pf informatica insieme alla protezione civile ha messo in campo subito dopo gli eventi sismici del 24 agosto del 2016 per consentire agli enti di andare ad inserire su questa piattaforma appunto la la stima i preventivi dei danni che avevano subito appunto per quantificare avere contezze del bisogno che poi la regione doveva poi richiedere a livello nazionale quindi vista l'estensione del sisma soltanto dal territorio poteva venire questa informazione in maniera più esatta anziché stimare noi dagli uffici regionali quindi avevamo questa prima versione del software che aveva questo contatore che si incrementava in tempo reale e appunto dava la contezza dell'entità dei danni subiti suddiviso per ente suddiviso per destinazione delle risorse ovviamente il sistema quindi è stato poi nel tempo adeguato anche rispetto alle numerose ordinanze del dipartimento della protezione civile nazionale e quindi incrementato con delle funzionalità e per gli enti è stata proprio indispensabile e lo è tuttora soprattutto tuttora perché dobbiamo fare tutta la fase di rendicondazione per la certificazione all'Unione Europea e quindi in un territorio gravato dai danni causati dal sisma avere per gli enti un sistema che li supportasse nella fase di rendicondazione diciamo che è stato ed è tuttora tuttora fondamentale qual è la versione attuale che è cresciuta nel tempo abbiamo la gestione dei procedimenti amministrativi completamente digitale finalizzati appunto a diversi obiettivi e diversi finalità innanzitutto la prima fase è quella che consente agli enti di presentare le varie spese che hanno sostenuto affinché il gruppo istruttori presenti in regione possa poi andare a dare seguito agli istruttori e quindi andare ad effettivamente verificare l'ammissibilità della spesa sostenuta questi stessi dati però oltre ai dati strutturati e ai dati documentali che vengono richiesti vengono poi utilizzati anche per il secondo obiettivo che è quello di andare a presentare al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale tutto il set di dati e sono grandi quantità di dati dettagliati che serve appunto per andare a certificare la spesa all'Unione Europea e quindi avere il rimborso quindi attivare questo circuito virtuoso affinché poi riusciamo a restituire e a liquidare le spese sostenute dagli enti quindi oltre avere questo sistema che consente appunto quest'itere digitale amministrativo abbiamo dato anche un supporto per tutte le varie tipologie di spese quindi dal calcolo automatico del CAS al calcolo automatico per finanziare le strutture ricettive che hanno ospitato gli sfollati e vediamo che gli attori del sistema sono numerosi perché la parola enti racchiude comune provincia unioni montane erzo ato diocesi e così via è stato utile anche per fornire servizi come è stato detto più volte dei precedenti relatori servizi ai cittadini per attivare il servizio di trasparenza e anche le strutture ricettive e alla regione stessa perché il sistema viene utilizzato anche dalla regione per le spese che ha sostenuto direttamente la regione questo è un elenco delle 18 voci di spesa che il sistema dettaglia e struttura quindi noi riusciamo a interrogare il sistema è avere il dato per voci di spesa per ente per aggregati di enti e per l'intera regione il sistema viene utilizzato anche per dagli enti per la rendicondazione delle spese del personale utilizzato dai comuni quindi questo l'ho già detto insomma che poi i dati che vengono inseriti dagli enti vengono poi utilizzati per rendicontare le voci di spesa e vengono fatte anche delle attività di congruità del dato qualità del dato e verifica della presenza di tutti i dati obbligatori per evitare che cosa? per evitare che vengono trasmessi alla protezione civile nazionale e poi magari non superano i controlli quindi vengono scartati e di conseguenza vengono ritardati i vari rimborsi l'altro obiettivo del sistema è quello di mantenere nel tempo tutto il dossier il fascicolo documentale delle varie spese sostenute perché sappiamo che essendo fondi europei fra 2, 3, 4, 5 anni potranno venire delle autorità competenti a fare i vari controlli e quindi è un servizio che offriamo agli enti in modo tale che anziché poi andare a ritrovare le varie pratiche sui vari sistemi comunali o archivi cartaci Quagia Work Epa offre anche un fascicolo per consentire nel tempo di andare a rivedere tutta la pratica la storia delle varie fasi e quindi avere un archivio diciamo documentale brevemente uno screenshot del sistema per farvi vedere che il workflow della pratica si suddivide in diverse fasi e i comuni usano il termine mi rimandi indietro la pratica perché? Perché ancora non riusciamo a pensare digitalmente perché è la pratica che si sposta invece no la pratica sta sempre centralizzata presso il nostro data center è chi accede che in maniera diversificata quindi diciamo che è un sistema pratica centrico e non è più come prima che la pratica cartacea veniva trasferita e quindi è la pratica che si sposta quindi abbiamo una prima fase che viene eseguita appunto dal comune che inserisce tutti i suoi dati strutturati e documentali questa fase viene conclusa attraverso una protocollazione automatica perché il question work IPA interopera in automatico con il sistema di protocollazione regionale palio quindi evitiamo la persona fisica che protocolla perché parliamo di pratiche di 80.000 pratiche quindi immaginate protocollistiche quindi tutta questa fase qui l'abbiamo semplificata e automatizzata poi passa questa pratica in visione al gruppo istruttori che fa tutti i suoi controlli per vedere se la pratica è completa dal punto di vista documentale o deve richiedere delle integrazioni quindi nel momento in cui c'è bisogno di un'integrazione non è che la pratica viene ritrasferita in comune è il tecnico comunale che riaccede alla stessa pratica e integra con le indicazioni che gli vengono indicate dall'istruttore anche questa fase viene poi generato un documento che viene protocollato quindi per dirvi che ogni fase viene tracciata e viene poi archiviata digitalmente viene poi lo successivo controllo inserimento dei dati del mandato perché sono tutti i dati che vengono richiesti per la certificazione e superata questa fase viene subentra di nuovo l'istruttore regionale per verificare che la congruità o l'esattezza dei dati inseriti finita la fase 5 il sistema fa dei controlli in automatico appunto per vedere la congruità la completezza dei dati affinché poi gli stessi possono essere generati il report secondo l'ordinanza della protezione civile effettuato un ulteriore controllo a livello regionale e quindi trasmessi alla protezione civile dipartimento della protezione civile nazionale questo è il workflow molto velocemente quindi abbiamo per ogni fase dove accede il tecnico del comune dove accede il funzionario della regione per l'istruttore che viene sempre protocollato e gli attori che possono accedere alla pratica possono vedere lo stato d'avanzamento il pallino verde insomma serve a vedere che quello stato è stato superato e quindi in qualsiasi momento il tecnico può andare a vedere a che punto è la pratica ecco il sistema coagio work è stato realizzato in maniera molto veloce anche perché abbiamo messo a sistema le varie componenti infrastrutturali che già la regione Marche possedeva quindi abbiamo dall'autenticazione del sistema fed coagio integrato con speed quindi come credenziali di accesso possono essere utilizzate speed possono essere utilizzate la testa sanitaria cns la carta raffello abbiamo poi fatto l'interoperabilità appunto con il protocollo e adesso stiamo soprattutto poco fa che la protezione civile nazionale ha accettato anche l'ultimo invio con la firma digitale quindi integreremo il modulo della firma digitale in modo tale che tutto l'iter è proprio digitale quindi nasce e termina l'iter dal punto di vista digitale quindi questo qui l'ho già detto vado molto veloci per recuperare un po' lascia il tempo anche la collega se no questa è un'altra schermata per farvi vedere come quello che vi ho detto prima che è anche un sistema che raccoglie dal punto di vista di fascicolo quindi tutta la documentazione per un'eventuale speriamo pochi controlli successivi ecco ovviamente il fatto che abbiamo raccolto i dati sia strutturati che documentali questo consente alla regione o a tutti quelli che hanno accesso al sistema di andare a interrogare i dati quindi andare a vedere dal punto di vista statistico le varie situazioni dove sono andati i finiti i soldi a che punto sono lo stato di avanzamento delle pratiche gli istruttori e così via ci tengo un attimo a dire che l'ho saltato ma il sistema è stato completamente sviluppato con risorse interne come diceva Dopeccinini e quindi questo ci ha consentito di intervenire in maniera rapida sulle varie funzionalità e questi sono insomma i colleghi che hanno lavorato continuano a lavorarci e ci lavoreranno ancora per un po' e volevo soltanto chiudere dicendo che abbiamo sempre parlato di dematerializzazione ma la dematerializzazione non è la traduzione del modello cartaceo in un modello digitale perché sennò le persone dobbiamo anche cercare di cambiare l'organizzazione e la mentalità di lavoro perché come dico dovremmo pensare digitale dall'inizio in modo tale di ottimizzare i vari processi e fare in modo che effettivamente l'ICT sia di supporto per la semplificazione quindi abbiamo fatto ma c'è ancora da fare io avrei finito così grazie grazie Donatella non hai come dire non ti ho per me non ti abbiamo permesso di esprimere come dire tutta la complessità del sistema e la sua razionalità fondamentalmente comunque nel tracciare gli elementi fondamentali sei stato efficace un altro esempio fondamentale è quello relativo al contributo d'autonoma sistemazione lo dicevo questa mattina a mio avviso vale la pena illustrarlo invito qua la collega amica Silvia Moroni che è funzionario della posizione di funzione scusate funzionario del servizio protezione civile grazie calo di zucchero anch'io e allora che ha condiviso con tutto il servizio ma tenendo come dire assolutamente botta a questo anno e mezzo veramente difficile a te la parola Silvia grazie Davide il mio intervento si sviluppa su un caso concreto ovvero il sistema di gestione del contributo per l'autonoma sistemazione il famoso CAS che cos'è il contributo è previsto dall'articolo 3 dell'ordinanza 388 modificato dall'articolo 5 della 408 ed è una misura di assistenza alla persona ovvero destinata alle famiglie o ai singoli cittadini la cui abitazione sia stata distrutta in tutto e in parte dagli eventi sismici o sia stata sgomberata a seguito di provvedimenti specifici chi ha diritto a percepire il CAS sono le famiglie o i singoli cittadini che abbiano provveduto autonomamente a trovare un alloggio alternativo senza il carattere di stabilità come? come si presenta la richiesta? allora le famiglie o i singoli cittadini presentano un'istanza in forma di autocertificazione agli uffici del comune dove appunto si trovava l'immobile inagibile presso il quale avevano la propria dimora fissa stabile e continuativa e qui la carta si ferma ovvero l'istanza è presentata in forma catacea ed è l'unica parte diciamo tangibile che avremo appunto nei nostri archivi perché? perché in questo momento le informazioni necessarie che sono presenti nell'istanza ovvero composizione indirizzo abitazione presenza di persone con più di 65 anni o portatore di handicap titoli in grado di legittimare l'uso dell'abitazione titolarità di utenze fisse si viene inserito nell'istanza attraverso il sistema cohesion work PA questo grande questa grande repository come la chiamo io che contiene dati di ogni genere e una mole sconfinata di dati perché? perché i comuni coinvolti nel processo di erogazione del CAS sono 153 dislocati nel territorio di tutte e cinque le province compresa Pesaro Urbino che pur non essendo stata toccata direttamente con danni ingenti dal sisma comunque ha visto inagibili alcune abitazioni nei comuni che sono diciamo più a ridosso della fascia penninica attualmente i nuclei che percepiscono il CAS quindi che noi gestiamo sono 12.647 il totale delle persone assistite 26.607 e il totale del CAS erogato dal 2016 ad oggi dalla sottoscritta ammonta a 162 milioni 344 mila 788 e 3 centesimi di euro mi piace pensare a questa piattaforma con un duplice approccio bottom up e top down bottom up perché? perché in realtà i 153 comuni caricano le istanze ma non scansionandole semplicemente inserendo i dati in un'anagrafica dei singoli nuclei mensilmente monitorano la dinamica dei nuclei ovvero chi entra e chi esce dal CAS per i motivi più disparati o perché è entrato in SAE o perché è l'abitazione che poi si è vista inagibile e agibile perdonatemi dopo i sopralluoghi AIDES eccetera e quindi mensilmente tutti i comuni generano digitalmente con un protocollo come parlava prima Donatella il report del fabbisogno mensile noi quindi il servizio protezione civile accettiamo i report redigiamo il decreto di liquidazione ed eroghiamo il fabbisogno ai comuni i comuni liquidano poi il contributo agli aventi diritto quindi ai nuclei familiari quindi l'approccio bottom up continua perché noi poi abbiamo l'obbligo di rendicontare al dipartimento di protezione civile la spesa mensile sostenuta per il CAS che accade che dopo avere liquidato i comuni i comuni a loro volta liquidano i cittadini e quindi inseriscono mandate date di quitanza sempre nel sistema cohesion e poi sono in grado di generare un report di esportazione dati noi lo diciamo scarichiamo dalla piattaforma controlliamo e quindi accettiamo i report e li trasmettiamo al dipartimento per un ulteriore controllo e validazione definitiva della spesa proprio ieri mi è stato detto dal dipartimento di protezione civile che finalmente è stato un lavoro particolarmente raffinato di affinamento continuo e costante e in questo caso oltre a ringraziare i colleghi che prima Donatella ha citato voglio ringraziare anche Cinzia Mici che in questo momento è in un'altra sala con un'altra sessione appunto di lavori che ci ha seguito costantemente con i ragazzi per diciamo in questo lavoro certosino e finalmente ieri ci hanno detto che abbiamo trovato la quadratura del cerchio e che quindi avremo la possibilità di rendicontare molto molto più velocemente 162 milioni di euro per terminare l'approccio top down ovvero dall'alto verso il basso perché comunque questa piattaforma ha un utilizzo a livello globale quindi non solo da regione enti locali ma anche dalle forze dell'ordine perché in virtù di un protocollo tra il dipartimento di protezione civile e la guardia di finanza i dati che sono contenuti nelle istanze e i successivi report quindi sono oggetto di analisi da parte degli organi che sono proposti al controllo per verificare il possesso dei requisiti e la titolarità per cepire il CAS parliamo di 162 milioni di euro il controllo è assolutamente necessario e dovuto quindi le forze di polizia di controllo sono state a loro volta abilitate all'utilizzo del nostro sistema e quindi in totale autonomia possono prelevare i dati di interesse per effettuare qualsivoglia operazione di controllo e di indagine con questo terminato vi ringrazio per l'attenzione e buona giornata in realtà vista l'ora non voglio assolutamente abusare e infierire sui presenti che hanno avuto la pazienza di aspettare fino in fondo le mie non sono le conclusioni ma soltanto quindi non dico niente di quello che avevo preparato perché non mi pare nell'ora e ci avremo modo di ritornarci però due brevissime riflessioni l'ho ascoltato le relazioni tecniche che avete fatto e voglio ringraziare tutti quelli che sono intervenuti perché avete dato veramente un contributo ognuno per il proprio campo per il proprio settore di credo eccezionale le considerazioni brevissime a flash che voglio fare sono due il terremoto ha rivoluzionato la vita di tutti i cittadini almeno di tre province su cinque delle marche ma ha rivoluzionato e ha messo d'accordo anche il modo di lavorare dei comuni e quindi anche le stesse unità operative comunali le stesse amministrazioni hanno dovuto rivedere totalmente quello che era il loro modo abituale di amministrare e di lavorare se non ci fosse stata l'informatizzazione di tutti i processi non oso immaginare cosa sarebbe successo è stato un passo importante fondamentale che deve aiutarci e ci guiderà nella fase successiva non solo nell'emergenza ma anche e soprattutto nella ricostruzione e credo che due requisiti che oggi i cittadini ci chiedono e ogni piesso spinto ci domandano sono pienamente diciamo sono pienamente recepiti dal cohesion da tutta la piattaforma informatica che abbiamo messo in piedi riguardo la tracciabilità e la trasparenza ogni cittadino può sapere come sta la sua pratica in quale momento in quale situazione si trova quindi mi pare assolutamente importante e devo dire che non è stato semplice non è stato facile mettere in piedi questo meccanismo non eravamo pronti nessuno era pronto a livello di amministrazione comunale a fare questo percorso e quindi soprattutto perché purtroppo il terremoto come sapete ha infierito nei comuni più piccoli già per tutta una serie di problematiche che adesso non stiamo qui a tirare fuori erano già fortemente depotenziate anche dal punto di vista del capitale umano quindi è stato un percorso ad ostacoli difficile che mi pare però cominciano cominciano a dare i suoi risultati e anche gli stessi amministratori che vedevano questa cosa come un appesantimento inizialmente e chi ci ha lavorato lo sa si sta rendendo conto che effettivamente oggi è una cosa importante la seconda questione su cui volevo intervenire ma lo faccio solo a livello del flash è che noi nella ricostruzione di quel territorio non solo dal punto di vista abitativo ma soprattutto dal punto di vista socio-economico dobbiamo cercare di fornire quell'area non solo quell'area ma tutta la regione del sistema della banda larga anzi ultra larga perché lo ricordava la professoressa dell'università di Camerino che ringrazio come università per il ruolo che ha svolto e sta svolgendo in quel territorio senza questo strumento noi non riusciremo comunque riusciremo ad attrare risorse e anche a attrare potenzialità dal punto di vista della ricostruzione economica quindi penso ad investimenti soprattutto di coloro degli operatori che hanno bisogno di uno strumento importante come questo quindi è fondamentale continuare ad investire sul digitale perché è questo il nostro futuro se vogliamo ridare un futuro appunto anche alle zone che sono state messe in ginocchio da questo mostro che appunto ci tiene dal 24 agosto 2016 ormai al fronte in guerra quasi quotidianamente e non accenna a diminuire e non accenna a lasciarci in pace quindi io vi ringrazio e vi chiedo scusa per il tempo e anche per il ritardo ma stavo affanno per un'altra questione relativa alla difesa della costa però credo che il tempo che abbiamo passato insieme sia stato un tempo importante ringrazio anche il forum e gli organizzatori per averci dato questo momento di approfondimento e di grande riflessione grazie grazie a tutti grazie a tutti